Buonasera signori, benvenuti su Pokémon Radical Red, benvenuti in live, come va? Tutto bene? Oggi c'è da fare un po' di robetta, eh? Oggi abbiamo da sudare Ma la soddisfazione potrebbe essere tanta Ok, qua abbiamo la prima fight e poi anche la seconda Molto bene Storia Instagram di spam E buona fortuna Per questa giornata Come va? Oggi ho dormito fino tipo alle 14 No, non fino alle 14 in realtà Ma tipo fino alle 13.30 Infatti poi ho dovuto far uscire il video di Radical Red in fretta e furia Perché sto facendo degli orari terribili In più ho evidenti problemi allo stomaco In più In più Domani vado da Dread Spoiler forse Forse spoiler Chi lo sa Just saying Domani a quel giorno Ale Perfetto Immagino Un po' di Kaizo Ironmon Con il buon Dreadone Sì lo so che ne ho già parlato È che È stato divertente Organizzarmi con Cioè è divertente organizzarsi È stato divertente organizzarsi con Dread in questo contesto Perché Dovevamo fare questa cosa Tipo A gennaio O come minimo a inizio febbraio Ma Ciclicamente Uno dei due Aveva dei problemi Dei contrattempi L'ultimo L'ultimo sono stato io Ad avere un contrattempo Dovevo andare lo scorso sabato Ma poi Trenord ha scioperato E quindi Beatrice è rimasto un giorno in più E quindi dovevo accompagnare le stazioni Quindi non ce l'ho Perché non conosce Milano Quindi sì Però Domani a meno che non salta in aria Il treno su cui sono Dovrebbe Chiudersi tutto ciò A proposito di cose che si chiudono Chiudiamo questo tra i uno perdendo Che ne dite Ovviamente l'obiettivo è arrivare Fino Alla Lega E vincerla ormai Sarebbe ridicolo nascondersi Sarebbe altresì ridicolo nascondersi Arrivati a questo punto Story Instagram di spam Partito un meme Vabbè Lascia perdere questo meme Che era bannabile Fortunatamente Non a livello musicale Mi faccio una foto Da sotto il mento Per spammare Enrico Alvarez Quale è una buona idea Sarei il primo a vincere Al primo tentativo Non ne ho la più pallida idea Credo che sia abbastanza Se sia abbastanza difficile Far la first try Quindi Potrebbe essere In realtà non so ad oggi Quante persone abbiano Testimoniato Carta canta Con la loro run Di aver Finito Radical Red In hard mode Ma Che se non è un record Sarebbe comunque Se non fosse un record Sarebbe comunque un risultato Abbastanza Eglatante Fottuto try Vi rendete conto che Con questa retorica Del try Esplorativo Mi sono messo Un sacco in difficoltà Cazzo di Swampert Cazzo di catture Non pianificate Giocato tutto il gioco Senza Golduck Arrivo Sto spavando la storia Per avere gli spettatori Che altrimenti Che cazzo ci faccio Con sto lavoro Niente Oggi è arrivato Il pagamento Di Twitch Chat Non ci pagano Grazie a tutti Ma proprio niente In più Lo No in realtà Non è che non ci pagano niente È che È una serie di È una serie di combinazioni Twitch oggettivamente Pago un po' di meno Più io stremo un po' di meno Ma ormai è praticamente Fisso Che guadagno più da Youtube Che da Twitch Voi mi direte Su Youtube però Ci investi anche Su Twitch L'investimento è pari a zero Se non in sanità mentale Vero Pokémon Radical Red Se vi sembra un po' Smorto Chat Vi do un paio di ragioni Ragione numero uno Non sto benissimo In effetti Ho un po' di problemi Di stomaco Probabilmente È l'intestino Insomma In sintesi Non cago Non cago Non cago Come si dovrebbe Da un po' di giorni In più Mi sono Ho il ciclo Notte e giorno Un po' sballato Svegliarsi Alle 14 Non è il massimo In realtà C'è un po' di giorni Che sarebbe Che sarebbe ok Nel senso che Se noi Per qualche ragione Riusissimo a beitare L'antù E Shandelure Sul Pokémon Giusto Andrebbe anche bene O beitare Shandelure Per ultimo Alternativamente Sarebbe ok Grazie Grazie a ripiater Per i 25 bit Grazie mille Dottor merda Per il prime Cazzo La merda È quella che vorrei fare io Frate Terribile Sì 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 Dovrei schiudere Qualche uova Hai assolutamente ragione Farò di che una gatta Ha deciso che il mio cortile Ora è casa sua L'ho chiamata Frederica Wow È proprio quel personaggio Di Fire Emblem Scusatemi Scusatemi Di 3 ago strategy Dai Fanculo Sistemiamo un po' le cose Allora Cazzo di manine Le manine di merda Iron Hands Noi abbiamo Marowak Che con una Colbur Dovrebbe mangiarsela Il cap direi Che è a livello 82 A sto punto Visto che loro Sono a livello 82 Ci ho imparato qualcosa Allora Noi con Marowak Lighting Rod Siamo in controllo Lui ha Quark Drive Che però non gli si attiva mai Giusto? Vero? Gli si dovrebbe attivare Ad Iron Hands Con Quale condizione climatica? Con il campo elettrico Ma non c'è No? Quindi non dovrebbe Avere alcuna Alcuna rinnovanza Sì infatti Infatti non è attivo Grazie Jamie Per il 29esimo mese Intanto Sto anche per partire Un simpatico Hive Train 4 ha rinnovato L'abbonamento Per 29 mesi Forse Poccio Non era il caso Te lo dico La butto lì Forse Forse non era il caso Di scrivere La N-word Mascherata da nomi Di band italiane Non lo so Te la butto lì Come idea Forse non era il caso Sam 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 Allora Io non sono mai Più veloce di lui Sono sotto Swamp Mi dirai Ho 26 di speed Mi dirai Io potrei farmi Impish Colbur E poi dopo Con Will-O-Wisp Sarebbe Ok la situazione Probabilmente Questo Marowak Sarà tipo Will-O-Wisp Rest Qualcosa del genere Sì Credo che ci sia Un modo Per baitare Shande Ma Sicuramente Dare Bone Merang Non aiuta Credo che Con il set Classico Di Marowak Tu baiti Sempre Solo i dragon Oh Cristo Di ma perché Questo Alienatore Calcolato Malissimo Allora I dragon Mi spieghi Perché Non mi segni Ah perché Boomerang Ok Perché Lì è Levitate Giustamente Certo Chiaro Perfettamente Senso Lui Lui è Levitate Quindi sì In buona sostanza Lo baiti Sempre Che va bene In realtà Non è male Come bait Può starci Venus Ormega Del rivale Se io giocassi Fire Punch Non dovrebbe avere Tick Fat Quando è Non mega No Infatti è overgrow Quindi sì Lui non lo baiti mai Ok Ehm 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 Shande Con Boomerang Non lo baiti mai Il dannetto Glielo Fire Potresti anche Baitare Primarina Non bait Non baiti di certo King Gambit In realtà potresti Baitare anche King Gambit No però Porco due Perché me li mette Al centro E qui è buggato Il calcolatore Occhio Non far cagata Dobbiamo sempre Impostarle da qua Sino King Gambit Non entra mai Ehm Shandelure Non entra mai Primarina Potrebbe entrare Ma probabilmente Se mi do tipo Thunder Punch Si conta Thunder Punch Baitarei Sempre Ehm I Dragon Va bene Qua sera No Ice Beam E Hyper Voice Shot Species Eseina Ehm Cravo come me Di la rando Poi Giovanni Pensi Aveva passata Possibilità Beh me la gioco Fino in fondo Non c'è motivo Per cui non debba Avere possibilità Le colda Lega Ce le ho Quindi Sì Direi che è tutto aperto Poi ovviamente Lo prenderemo nel culo Lo stesso Ma con un altro discorso Oh ipotizziamo Di buildare Marwak Will Wisp Bowman Fire Punch Thunder Punch Semplicemente per Veitare Ehm I Dragon Ok Immagina Quello che poi Che poi fai è Dentro Incineror Assault West Assault West Sicuramente Drain Punch O addirittura O addirittura In realtà Leech Life Il bro Non è Due hit Però immagino Che con Un fake Outtino 10 42 Sì beh Sarebbe molto Probabile Tirarlo giù In realtà Eh Leech Life Fake Out Darkest Lariat E ti direi Comunque Train Punch Immagino O Blaze Kick E Blaze Kick Non baiteresti Dentro Kingambit È probabile che però Tu voglia Baitare Kingambit Giusto Non ti dispiacerebbe Baitare Kingambit Sempre più veloce Di da Quindi questa è una buona cosa Se io giocassi Anziché questo Giocassi Metti Assids Prime Per il meme Qua entra sicuro Kingambit E i dragon Entra sicuro Kingambit No Questo bene Sì E i dragon Sì Allora Parte non gentle Magari Volevo mettere Carefully I dragon Potrebbe andare A più 2 Dynasty Plot Subito In realtà Se facessi In Sea Adamant Sarebbe top No Che avrei La kill garantita In questo caso Sarebbe Un roll Minimo Del 96% Quindi Con probabilità Combinata Dovrebbe Quasi Sempre Venire giù Se anche lui Tirasse La zeta Con Dark Pulse In realtà Se andasse A più 4 E zetasse Rischieremo Dei roll Di crit Ma Immagino Che Ci possa Stare Possibile Che tipo Ne abbiamo Low kick Low kick La fixerebbe Ma Potresti Non baitare King Invece A te Non dispiacerebbe Per curiosità Shandelure Tu vuoi Killare Shandelure In caso Con Insy O no Vuoi? Non saprei Te ne frega Ciao Nico Sì Il gioco Quell'epoca Viene annonato Da Marwak La risposta È Marwak La lead Perché in realtà Non baitare Shandel Ah beh Shandel Ai forb Quindi ok Sì Se fossi Adamant Killerei Sempre Giusto E con I dragon Comunque vada Con Lich life Recupero Vita Ora Non questo I dragon Che è al 100 Senza una spiegazione Perché è tutto Paggato Ma se io Gioca Sì Adamant Probabilmente È worth Avere La kill Garantita No E avere Più danni In caso Su Shandel Con questo Set Inoltre Beitresti Abbastanza Presto King Gambit Sarebbe Ok In realtà Potresti Fammi vedere Un po' Se Iron Hands Ha switchato Potresti Vitarre Anche Iron Hands Immagino Immagino che L'altro Mosso Di inizio Sia U-turn Vero Slow U-turn Potrebbe essere Molto utile Cioè Lich life Fake out Darkest Lay At U-turn Non giochi Mosso Fire Questo 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 Temo Temo Che ti Baiti In campo Venus Auro Mega Giusto Di realtà No Outspeed Smith Ma puoi Puoi Baitare Prima Arena In realtà Tresti Baitare Prima Arena Con Questo Sato Grazie Mimijus Spero Che sia Giusto Il nome Per Aver Esteso L'abbonamento Grazie Anche A Kramertor Per Il Quattro Dicesimo Mese Dopo Unnasti Danni Come Sono Di Dragon Sono Ok In Teoria Recupero Tutto Con Lich Life Se Poi Lui Va Più 4 Tira La Z Avrebbe Sai Cosa Se Lui Va Più 4 Tira Z Cosa Che Potrebbe Succedere In Effetti E Critta Su In Si Muore Altrimenti Avrebbe Dei Roll Per Reggere In Questo Caso Entra Sempre Prima Arena O King Gambit O Volendo Anche Iron Enzo Corretto In In Generale Non fa Molti Danni A Sti Pokémon Eh La Cosa Principale È Che Tu Non Vuoi Tenere Sotto Controllo Shandelure E King Gambit Cioè Vorresti Che King Gambit Entrasse Per Primo E Shand Che Magari Entrasse Tipo Alla Fine Con Un Pokémon Che Può Gestirlo O Su Uno Che Alternativamente Ci sta Saccare Ci interessa davvero Prendere la kill Con Insinero Su Shand Se Abbiamo Dugong Che Gestisce Con Slow U Turn In realtà No Vero Che Ci Importa Giochiamo Di Shandelure Che Perché Se Poi Shandelure Va A Fare Comunque Calm Mind Non Si Attiva Life Orb Siamo Nella Merda Credo Che Comunque Lo Farò Careful E Immagino Mi Giocherò Però Non Vuoi Giocarti Quei Roll Cazzo Ci Interessa Fare Fake Out Probabilmente No Vero Eh Sì In realtà Neanche Low Kick Basta Però Vuoi U-Turn Perché Se Per Caso Rimani Intrappolato Contro Shand E Non Riesci A Chilarlo Puoi Tirare U-Turn E Entrare Con La Call Però Vuoi Anche Leech Life Vuoi Fake Out Vuoi Dark Slayer Quindi Che Andresti A giocare Una Percentuale Non Proprio Felice Con In Sim D'altra Parte Se Tu 114 228 257 Quindi Se Facciamo Tutti Minroll Lo Prendiamo A 11 Eh Sono Tanti Più Che Altro I Roll Bassi Di Fake Out Se Anche Prendi Max Roll Di Fake Out E Poi Roll Li Fai Due Minroll O Simili No Non È Safe Togliere Dark Se Troppo Greedy Che Essere Troppo Greedy Non Saprei Più Che Essere Troppo Greedy Baiti Sicuramente Shun Ed È Una Cosa Che Vuoi Evitare In Partenza No Credo Che Insi Sarà Adamant Raga Non Posso Rischiare Piuttosto Se Per Caso Lui Va Più 4 E Poi Tira Z Di Dark Pulse E Critta Siamo Morti Di Insi Tra l'altro Se io faccio Fake Out Leech Life Poi Kilo Di U Turn Ne Posso Riposizionarmi Blim Qua Deve Giocare Su King Gambit Direi Il Problema Con questo Set Di Incineroar È Che Puoi Baiti Si è Switchato Iron Hens Cosa Possibile Su Marwak Switch Hai Dragon Giusto Sì Quindi Vabbè Willow Wisp Diventa Inutile Immagino Sia Comunque Una Cosa Immagino Sia Comunque Utile A quel Punto Potrebbero Rientrare Iron Hens Prima Rino King Gambit Iron Hens Quasi Sicuramente Switcherà Una Certa Però È anche Vero Che Se Tu Kill Di U-turn Ti Puoi Riposizionare No Quindi Possiamo Scegliere Un Mon Che Baiti King Gambit Banalmente Questa Sarebbe L'idea Allora Programma Il match Invece Di Lanturn Contro Primarina Allora Perché Questo Non è Semplice Lanturn Contro Primarina Probabilmente Rischia Un po Quali sono Le hazard Qui Che non Le vedo Non ci Sono Hazard Se non La Palude Swamp È una Meccanica Che Riduce Di Tantissimo Del 75% La velocità Dei nostri Pogbon In buona Sostanza Se non Hai una Priority Non Allspeed Allora Lanturn Contro Primarina Primarina Vuoi Spammare Calm Mind Noi Possiamo fare I rimpulse Possiamo essere Sicuramente Sassi Tra l'altro Tutte le nature Facciamole che Meno speed Tanto a quel punto Una sorta di trick Sì Mettiamola così Non è esattamente così Grazie Fengo Per la sua regalata Pudone 96 Voglio sapere se Pudone l'hai Focusato L'hai regalata lui Oppure si è arrivato a caso A uno che si chiama Pudone È un nome che mi fa Tremendamente Rider Allora La cosa brutta Di questa fight Con Primarina È che lui Con Draining Kiss Outspeed Potrebbe Wallarch Ok Oh sì Oh sì Oh sì Nico Sottolineatore Marezza 94 Ha rinnovato L'abbonamento I rimpulse Droppava di uno O di due Quello che avevamo Pensato La volta scorsa Con l'Hunthorn Era una Disgustosa strategia Con Screech Quindi tipo Screech Più wild Charge Che è oggettivamente Imbarazzante Ma lui Realisticamente Setupperà Un bel po' Se anche lui Fosse a Più due I danni Sono abbastanza Ridicoli E tu con Wild Charge Vai a Killare Quindi sarebbe Wild Charge Screech Iri Impulse Realisticamente Citrus Perché poi Vuoi recuperarti Da recolti Wild Charge Cioè 19 Ciao Sossio La serata Filidicia Speriamo Io non ho tutto bene Sto un po' male Ho un mal di stomaco Però Va bene lo stesso Immagino poi Allora Se io giocassi Con queste mosse Qua Posso Beitare Una quantità Di roba Indecente Cioè può essere Di tutto Il problema Di beitare Kingambit È che Cioè può essere Kingambit Ma può essere Letteralmente Tutto Può anche essere Chandelure Può essere Venusaur Perché no Facessi però Ice Beam Ma questo Venusaur Non sarebbe Tickfett Perché Verrebbe calcolato Senza Ok Quindi Venusaur Con Ice Beam Non entrerebbe E se al posto di Rimpus Mettessi Surf Potrebbe entrare Non handsome Che però Immagino che Essendo burnato Sia ok Nel senso che Posso sempre Ributtare dentro Marwa Che gestire Vai c'è anche la possibilità Che Iron Man Si faccia ammazzare Il concetto È che Sì Allora Se io giocassi Surf Ice Beam Screech Wild Charge Dovrei riuscire Contemporaneamente A killare Prima linea Se Iron Hands È morto Beitare King Gambit Altrimenti Vai Ogni volta che entra Iron Hands Io rientro Di Marwak Alla lunga Se lui spamma No Kofo Potrebbe essere fastidioso Se però A Marwak Non do robe curative Potrebbe essere Un giochino Che non paga Alla lunga Qualcosina Si rieschiamo Qua Kingambit Lo tiene per ultimo Non funziona così Non è un secondo te Sono delle ragioni Per cui può switcharlo Oppure no Non Dimenticate Scusate Dimenticatevi Secondo me Quando si planano Le lotte Pokémon Non c'è un secondo voi C'è un Secondo come è stato programmato E la programmazione Dice che non tiene Kingambit per ultimo Perché non ha motivo Di farlo Allora Oh Marwak Lo fai Impish Fallo Relaxed È lo stesso Insi Lo fai Brave Qua giochiamo Il più lento possibile Tanto a sto punto E Lanthorn Lo fai Sassi Dovanda Wild Charge Scusatemi Lanthorn Ce la La può prendere Si la prende per MT Abbiamo l'MT Di Wild Charge Penso Dovremmo averla Più il numero A sinistra Di outspeed È alto Più è probabile Che rimanga Esca E quindi indica Indica chi switch No Più è alto Il numero Più è probabile Che il Pokémon Entri in campo Sul tuo Pokémon Cioè Non è probabile Se 31 3631 È più alto Di 16 Vuol dire Che 31 Entra al posto Di 16 Molto semplice MT Dovrei avercela Wild Charge Sono abbastanza convinto Se la vedete Chat Fermatemi Io lo sto osservando Allora Ammetto che Questa play È un po' Ok Eccola qua Ammetto che Questa play Con Lanthorn È abbastanza Oscena Abbastanza Disgustosa Lanthorn È ampiamente Spendibile Arrivati a sto punto Unica cosa Ragioniamo magari I piani B Solo questo Madonna Che casino Di Erranti Che c'ha Ok Questa roba È disgusto Niente da piangere La quella Potenziale Sac di Lanthorn Beh Se ci serve Saccare Lanthorn Ragazzi Non ci penso Due volte Per quanto Possa essere Carino Lanthorn In alcuni contesti Ma La cosa che mi spaventa È il continuo switch Di Iron Hands Vi dico la verità Mi preoccupa Un po' È vero che Marrock Dovrebbe sempre Entrare safe Cioè perché Oddio Dipende No Coff Potrebbe volerlo Tirare quando vuole E lui è Bernato La verità è che A Marrock Dovremmo riuscire a dare Un A Marrock Dovremmo riuscire a dare Un rest Per sicurezza Su Iron Hands Però Per 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 Beitare sicuro I Dragon Tra l'altro Scusatemi Voi non vedete Qua Per Beitare sicuro I Dragon Dobbiamo avere Un set Offensivo Non lo so Il set Che ho programmato Per Marrock Relaxed Lighting Road Colbur Berry E poi Sarebbe un po' Un classicone Bone Mereng Su Iron Hands E poi Avresti Thunder Punch È abbastanza È abbastanza Tricky Questa sfida È molto 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 Fastidiosa Il fatto Di essere Più lento Anche di Pokémon Lenti È Relaxed Colbur Lighting Road Qua è sempre Will Wisp Turno 1 Iron Hands Sicuramente Tira Knock off Perché vede L'item Quindi Burnarlo Lo burni È che Sì Sei un po' Al limite Con Marrock Immagino che però Nel momento in cui Iron Hands È burnato Cioè Sti cazzi No Posso addirittura Rimanere con L'Anturn Potenzialmente Se lui entra Sì Sì Immagino che Sì Brava Assault Vesti Intimidate Oh wow Il set è già Praticamente Fatto Ti serve Solo Fake out Ok Ho questi tre In teoria In teoria Sono a posto Raps Rapska 320 In cui vi faccio vedere Questa pagina qua La trovate sul canale Di apesio Unbound E lui in descrizione Ha questo sito qua Dove ci sono tutte le Resorse di radical red E altra roba Tipo credo Unbound In Clement Emerald Roba del genere Sì Allora Ipotizziamo Che sia entrato A quel punto Però King Gambit E Lanturn Se riesce Suprimarina Dovrebbe evitare O King Gambit Beta Con questo set O se vivo Iron Hands Però Magari Iron Hands è morto E se Beta Iron Hands Credo Che a determinate Condizioni Possa anche Dare una mano A Marowak Vero? Sì Beh Sei burnato A voglia Pongo Posso fare Tipo Scricce Puoi switchare Su Marowak Per dargli una mano Gioco di Marowak L'ha vinto Iron Hands Ma in realtà È un po' più antipatico Di quanto potrebbe sembrare In tutto questo Non dovrebbe quasi mai Entrare Shand Quindi ok In più Se entra Su Dugong Va bene Se entra Su Insy Possiamo fare Due turn Se entra Su di lui Possiamo switchare In teoria Ora è King Gambit No? Oh King Gambit No Qua qua vale Intanto Qua qua vale Il nostro uomo Il vantaggio Di Quacoval È che avendo Unnerve Impedisce lui Di mangiare la bacca E lo shottiamo Con Close combat Immagino Basti La qualunque Ma il problema Che King Gambit È logicamente Più veloce E se per qualche Ragione Lui ha killato Five Hallies Eh Cioè Se entra Per ultimo Quacoval Rischia Se lui va Più due Figurati Impish Tank Quacoval Sesh Forse Vuoi giocare Se entri Su uno Sword Dance Sei ok Se entri Chi l'hai Killato Tu Hallies Come ipotizziamo Rischi Qualcosa Se entri Su Three Hallies Doresti Doggiare Dei Crit E se Dovesse Morire Quacoval Lui non si fosse Sei tappato Allora potrei Entrare D'Inzi E fare Qualcosina No In un contesto In cui non si Ese tappato Oddio Inzi Prende Brick Break Più o meno Immagino Di rischiare Qualcosina Se King Gambit Entra Dai Tre Hallies In più E Non si tappa Ma attacca Direttamente Quacoval Con Brick Break Però che è Bastanza Irrealistico Impish Più Close Combat Più Unnerve Chi le resti Fossero Trialli Se questi fossero I danni Teoria Sei ok Problema è che se Perdi Quacoval Per qualche Ragione Su King Gambit Minu Bello Immagino Però di non avere Call migliore di Quacoval No Brick Break Kill Sì ma è abbastanza Irrilevanta Iron Head Knock off Brick Break Sword Dance Più che altro Il problema Questo tank Ad addio Sarebbe da One shot Arm Tio C'ha uspita sempre Perché siamo sotto Swamp Quindi stiamo pensando Slowbro Ma se questo Inizia a setappare Davanti a Slowbro 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 Body Press Però Eh però Choppel Porcazzo Che figa Che danno Che fa di knock off Eh ok Slowbro Prende decisamente Troppo Lo sai ragazzi Quella volta È un intero Nazlock Che giochiamo Un intero Nazlock Che non capite Che Claude Sare è un difensore Speciale Dodrio Session Quel punto Tanto vale Quacoval Famiglio Che Slowbro Sarebbe interessante Perché forse Con Body Press Da Mega Kill Perché ora Ce l'abbiamo Assolutamente no È una buona difesa Fisica No vabbè Ma è Quacoval È Quacoval È sicuramente Quacoval È sicuramente Quacoval 100% Quacoval Non vedo Proprio altre Soluzioni Che abbiano Più senso Quacoval Se Kingambit Entra In teoria Dovremmo Beitarlo Verso inizio Se lo Betiamo Anche Entro Tre È ok Quacoval Ok Il punto però è Quacoval Dovrebbe essere Assolutamente in grado Di baitare Venusaur Perché tu avresti Close Combat Avresti Una qualsiasi Mossa acqua Liquidation Che Avresti Vabbè Annervo Che non ti attira Dentro Shande In teoria Tutti i nostri Pokemon Sono costruiti Per baitare Shande Per ultimo Per baitarlo Su Snorlax Che dovrebbe essere Easy GG Oh sì Oh sì Oh sì Che se In realtà Adesso vediamo Non c'è motivo Per cui non deve Entrare Venusaur È sempre Venusaur Close Combat Liquidation Suppongo poi Aqua Jet E Qualcos'altro Che magari Scongiuri Bait Di altri Pokemon Rimasti Dietro Oh wow Me l'ha messo Al 100 Sì Allora aspetta Forse Ok Sì No Uguale Non cambia niente Oddio no Però Venusaur Normale Ok no Non cambia niente Ok Quello che poi succede Con Venusaur E che tu avresti Che tu avresti Snorlax All'82 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 Il Il Brofa Chloro Blast Tu saresti Secondo me Tick Fat Careful Oh lui Lui con Chloro Lui con Saresti safety goggles Però andare a dormire Taccoli Taccoli Secondo me Sludge bomb Giochi uno Snorlax Che ha tipo anche Rest Zenhead Button High horse power E tipo Sleep talk Questa roba qua Dovrebbe Alla lunga Gestire Venusaur Anche con il recoil Di chloroblast Stollare Venusaur Immagino che I drop di earth power Possano essere fastidiosi E nel momento In cui entra Shandelure Che danni che vede Di energyball Sulla setup A calm mind Diventa fastidioso Perché Tickfette Non immuniti Perché vuoi prendere Meno danni Da Shandelure Perché in caso Snorlax sarebbe La col sia Su Venusaur Che su Shandelure Non sono sicuro Che riesca a gestirli Entrambi Perché Di high horse power Fai 61 Però immagina Che lui Tu magari sei Sotto rest Con quel set Non attire Di continui dragon Sì dragon In teoria È morto Però dann Se entra I dragon Ci aggiusteremo Che devo fare Cioè in teoria I dragon È morto prima Se baiti dentro I dragon Ci fotto Ributo dentro Incy E riparte il giro E se entra Shandelure Su Incy Può andare bene Perché tanto U-turn E posso rientrare Con Dugong A quel punto È che Snorlax Su Venusaur Che poi Si fa anche Shand E sincero Mi spaventa Un po' Devo dirvi La verità Non è che Mi sento Molto Al sicuro Sarebbe bello Gestire Venusaur Con un Pokémon Che poi si faccia Più Tipo Dugong Su Shandelure Sarebbe buono Se entrassi In un momento No Se Dugong Entrassi Su Shand Tu hai Ice Scales Quello che succederebbe Che tu saresti Careful E faresti Immagino Liquidation Più acquaget E dovrebbe bastare Mai nella vieta Wow Per quale assurda Ragione Non surf Per cui Lui avrebbe Calm Mind Giusto Ok Ascenso Quindi poi Dopo se lui Andasse Solo a più Di Calm Mind Sarebbe un problema Venusaur 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 Cloroblust Sampdos Sarebbe Ok Se poi Non dovesse Sampdos Sarebbe Wall Switch Però Penso che Prenda Troppissimo Da Shand Ed essendo Più lento Non può Fare Wall Switch E Shand Ha Shadow Tag E Gabri Ma come fai A beatare Shand Su Wincy Forse Sì ragazzi Il problema Uno Sì Non sarebbe Malaccio Il problema Il problema È che se Shand Mette Shadow Tag È finita Togli Darkest Se tolgo Darkest Possono Entrare Primarina Shandellur King Unbeat Ironhands E ho perso E ho perso Una call Su Shand Dura Offensiva Vale La pena Boh Secondo me No Potrei togliere Darkest E mettere Una mossa Che mi Baiti Solo Shand Però A quel punto Io Baito Shand Su Incineroar Non lo Kill E cosa Ho ottenuto Che posso Fare U-turn E riposizionarmi Sì Con Chi Con Un Sesto Pokemon Ok Poi se switch Abbiamo perso Però la call Con Iense Drump a Shadow Ball Fa male Su Shand Sì Fa molto male Drump a Shadow Ball Peccato che sia qua Pokemon di tipo Spettro Possono switchare Nonostante Shadow Tag Sì E anche i Pokemon Che hanno Shad Shell A dirla tutta Per non baitare Venusaur su Quaco Sì ma tu vuoi Tu vuoi baitare Venusaur su Quaco Quello è il punto Cosa vogliamo baitare Shandellur su Quaco Valle Perdere Quaco Valle Grades Prima ci ragionerei Un po' Onestamente Mi sembro un po' Avventato Sì vuoi decisamente Essere Tip Perché con Rest Ti ripigli Quanto Quanto può andare male Avendo Igor's Power Mega Mega Venusaur Ce l'ho sempre In controllo Fondamentalmente Questo con Chloroblast Si killa Tu puoi tirare Rest E puoi giocare Sleep Talk Però a determinate condizioni Shandell fa un disastro Cioè se per qualche ragione Lui facesse tipo Ehm Cioè a dire Che venusare sempre più veloce di me Quindi in teoria Se lui muore di recoil Di Chloroblast Io faccio Rest Sono sempre tranquillo E poi posso tirare Sleep Talk Sotto Shandell Sperando di hittare le mosse E anche se non le hit Dovrei avere range Pauroso Ma Si può fare Rischieresti Snorlax Che è un Pokémon Fortissimo Quasi da lega Grazie Latt Per il Prime Intanto benvenuto Un po' rognoso Secondo me Ma non vedo molte altre Out Molte altre Cose Se non baitare Insi su Se non baitare Con Insi Shandellur E secondo me È già difficile Suo non è detto Perché Ok Blaze Kick Eviteresti King Abit Evenusaur Ma arriverebbe Primarina O Shandellur Probabilmente Tu però Lì con Insi Non hai Modo per killarlo Quindi dovresti fare U-turn E entrare con un sesto Che possiamo scegliere Ma se davanti a quel sesto Poi Shandellur Switcha Quello che succede È che ti trovi Punto a capo E non hai nemmeno Il Darkest Lariat Di backup Di Incineroar Quindi è un po' Una scelta Di questo tipo No Mentre invece Waller L'ha già preso in considerazione Mi spiegate che cazzo Deve fare Waller In Fuck Il problema per cui Non va bene Dugong È che se Shandellur Va a più uno Dugong Non riesce a giocare Quindi Abbastanza grave Credo che in effetti Claude Sire Sia Ok Vero che si becca Lifehord Un minchia Ok È un parolone Ironicamente Dugong Faceva meglio Qua è una guerra Questo ovviamente Il vantaggio che avrebbe Claude Sire È che se per qualche ragione Shandell riuscisse a setappare Uno sweep Quindi se perdessimo Snorlax Claude Sire Potrebbe entrare E non risentirne Claude Sire Sassi Con la Swamp Ragazzi A 14 di speed A livello 82 Quindi Claude Sire Sarebbe il backup Fondamentalmente Colisopod eventuale Non farmi bene Sia sui Dragon Che su Shandell Come backup In quale mondo Colisopod Farebbe ok Su Shandell Se Shandell È a più 2 Che è l'ipotesi Che mi sto giocando Tira un simpatico Flamethrower Su Golisopod E gli fa 100 28 Per cento Ma Crappo Hai first impression Ma Crappo Hai acquaggetto In realtà Acquaggetto Choice Band Sarebbe Dancent Credo che Acquaggetto Choice Band Non sarebbe Effettivamente male In caso Disperati Sui Dragon Può essere Una call Però Ma Sto Sì Ciao Sto giocando Shandell Oltre gli item Choice Band Sì 70 84 Di acquaggetto Dove aver Proccato Tre volte La lifeord Qualcosa del genere Suppongo Mentre sui Dragon Sei top In effetti Sui Dragon Potresti Addirittura Eh La life orb È 10% Nico Quindi lo portano A ottano A 80 Potresti addirittura Fare Ci interessa Scusatemi Se io faccio Se io faccio Incineror Entro sui Dragon Lui va Più Va bene Fa U-turn Into Goalizopod First Impression Kilo Ai Dragon E ok Quello che ci guadagno È che Insi Diventa Potenzialmente Giocabile Su Shandellure Nel migliore Dei casi È peraltro A full Vitam In più Se succede Qualcosa Quindi A quel punto Insi potrebbe Entrare Su uno Shandellure Fino a che punto Incineror Regge Shandellure Potrebbe essere Una buona call Goalizopod Ma come l'avete Pensato Cioè Ma non come L'avete pensato Cioè Non come Backup Ma come primaria Per rendere poi Incineror Backup Su qualcun altro Assoluto Insi Careful Se anche andassi A più safe L'inthruer Lo terresti Quindi Insi diventerebbe Una call Darkest Lariat Killeresti In realtà Insi Saresti Adamant Perché In realtà A questo punto Potresti farti Insi Careful L'altra cosa Che dobbiamo risolvere Quella che dici tu Nico Ovviamente Cioè Non dobbiamo Beitare Shandell Con Goalizopod Ovviamente Allora La cosa Interessante È che Oh Questo Ammetto Sì Infatti Allora Insi Lo puoi fare Careful A questo punto E io Lo farei Nel dubbio Careful Perché comunque Snorlax Sta prescindere un it Dove riuscire a farlo Anche se le cose Andassero male Quindi Non mi interessa Careful Oh Il punto è Non dare la choice band A Goalizopod Ma dargli tipo Expert belt Esatto Life form Killa sempre I dragon Ma tanto arriva Un u-turn Di incineror Ok In realtà Potresti voler Dare life form Perché Se per qualche Ragione Vuoi blindare L'ingresso Di Goalizopod Lo puoi fare E puoi fare Goalizopod Anche careful Probabilmente In più Credo che La life form Triggera Emergency exit No perché Si attiva Prima emergency exit Oddio Non lo so Ma Goalizopod Free In free switch Sarebbe ideale Quello che succede È che poi Goalizopod Con acqua jet Fa due hit Di shand O comunque Gli fa tanto danno Però Una volta che Kilo i dragon Goalizopod Ha un modo Per baitare Specifici pokemon Ci fa cappa Un po' La la Tutto Il ragionamento Mi spiace Una qua jet Liquidation E non Saprei Perché Noi con Insi Beitavamo Kingambit Primarina O Ironhands No Curioso Può fare anche Sucker punch Su Shand Vero Però Così facendo Allora Credo Che Kingambit Non entri mai Ed è questo Forse Quello che Non vogliamo Però è troppo Importante Avere Secondo me Insi Come Call Safe Su Shand Potenzialmente Invece È probabile Che Entri Primarina Immagino Che Leech Life Aiuti A non Beitare Venus Aurum Corretto Corretto Beach Life Liquidation Magari non Liquidation Ma Sucker punch Comunque Allora Non entra Venusaur Non entra Con acquagetto Comunque Shand Con liquidation Sarebbe meglio Penso Posso entrare Ironhands Decisamente Ma Penso che Addirittura Con liquidation Cambia molto E può entrare Primarina Quindi ti Perderesti L'opportunità Di far entrare Kingambit C'è quel punto Il rischio Di dover Beccare Di dover Fare Kingambit Deadly Non lo so Insi si presta Semplicemente Di più A poter Beitare Un certo Pokémon Che vogliamo Distruggere Il prima Possibile Ma avere Insi ti scopre Un po' Su Shand Ed oresti Garantire Come può andare male Snorlax Su Venusaur Ragazzi Ragioniamo Allora Venusaur Può fare Chloroblast E fare 50% Noi possiamo Sempre tirare Rest Immagino Che Dopo il primo Chloroblast Immagino Che l'out Peggiore E che Lui tiri Chloroblast Tra l'altro Questo è abbastanza Importante Sembra che Venusaur Abbia 248 HP Quindi Chloroblast Fammi Assicurare Che Ok Fermi Questo è Importantissimi Questo è Importantissimo Su Radical Red Qui c'è scritto The user Lounges It's Amassed Chlorophyll To inflict Damage It also Hurts The user A little Qual Calcolatore Sbaglia Non prende 50% Di recoil Credo Venuto il dubbio Mi sembrava Troppo Per gli standard Di Radical Red Change 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 Lock Lock Magari Grazie a tutti. In realtà... Oh, changelog... Oh, ma so parlare qualcuno. Questa è la 4.0. Chloro Blast è una 150. Ok, sì, l'hanno potenziata, ma prende 50%. Ok. Da changelog... Qui c'è scritto, eh. Chloro Blast 120 base power diventa 150 base power più takes 50% in recoil instead of 33%. Quindi dovrebbe essere così, ragazze, no? Però su questo che ho updateato... Questo che però... Sì, però non si può lavorare così, ragazzi, cioè... Ho fatto tutto col culo. Aspettate! Fermi. Fermi, 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 fermi. A me l'hanno usata, contro. Io l'ho subita, no? Qua perfetto, perché siamo sotto light screen. E quindi penso Rubska. Qua lui potrebbe fare sia Chloro Blast che Volt Switch. Rubska è il mio uomo, qua. No, fanculo, è esploso il merda. Quindi quanto prende di recoil? 33% come... Questo è fatto veramente col culo tutto questo. Non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Quattro punti siamo. What the fuck? Perché questo è un palpito? Scusatemi. Questo è un palpito da caso. Ah, perché è in normal, certo, scusatemi. L'ho dimenticato. Ma questo l'ho, le apesi on bound. Ma questo qua è un rematch, no? No, è interno. Sì, ma l'ho, le apesi on bound l'ha sicuramente fatto scusatemi. The score is back to zero. Also, Meow's Karada is gentle nature meaning explosion is now an OKO. Oh, qua vedo la spruccia. Oh, qua vedo la spruccia. Fai tirà. Nice switch. Qualcuno mi spiega sto recoil per favore. Dite che è in base al danno. Sì, però, raga, cioè, loro non possono fare i calcoli, cioè, non possono fare i documenti così fallaci, porco Dio. Ah, dai. Come cazzo fa uno a giocare? Sì, dipende dalla quantità del danno, anche io mi sto convincendo. Eh, ma questo è un casino, vuol dire che... Vuol dire che la mia idea con Snorlax non va mica bene. Snorlax non basterà mai per dire il giusto idiota. Cazzo, mi invento adesso io. No, la potenza di Chloro Blast è 120, ragazzi. Non è 150. Su tutti i calcolatori è 120. Questa wiki qua dice cazzate. Qua è 120, sono i changelog che sono sbagliati. Evidente. Vero che lui prende tanto di recoil, ah? Scusami, fammi andare sull'altro calcolatore. Magari se faccio proprio il calcolo specifico sull'altro calcolatore mi dice quanto prendi di recoil. Forse la risolviamo così, no? Sì, corretto. Prende non in base ai PS, mi sa. Secondo questo calcolatore prenderebbe 15-18. Anzi, 13-16. Sfammo le cose fatte bene. È il 50% della percentuale inflitta a noi, sì. Però questo vuol dire che Snorlax... Che cazzo fa? Non fa niente Snorlax. È un clown. Questo vuol dire che Snorlax è un pagliaccio, ragazzi. Si comporta poi così bene. Per il mega Snorlax. Così che lui ti tira Sludge Bomb. Sfammo. 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 Snorlax, mega Snorlax erba. Giusto perché lo sappiate. Non so. La mega non è la Victory, no. Ci abbiamo già. Ma a Zabdos non va bene, ragam. Perché ne è tritato da Shander. Il problema è... No, non ho preso il Pokémon errante e non lo prenderò. Non lo prenderò. Non c'è diverso. Non lo prendersi. Non lo prendersi. Non lo prendersi. Non lo prenderò. Allora Snorlax probabilmente riuscirebbe anche a gestirlo In un certo modo Il problema, provo a rispiegarlo È che nel momento in cui poi dopo entra Shandelure Perché noi stiamo planando tutto così Nel momento in cui entra Shandelure Shandelure scutatini Se Snorlax è sotto resta e con poca vita muore Va bene? Che è questo il concetto E non vuoi di certo buttare via Snorlax Così a cuor leggero Secondo me Quindi di base Snorlax riuscirebbe anche A gestire Questa roba qua È che non gestirebbe doppio Pokémon Shandelure Shadow Tag non puoi switchare Non puoi dare ovviamente Shell Shell Perché Venus avuta addormenta E poi è un delirio Mio T Irriggio Che è sicuro Ma non è un amico Finta Perib�� kidsa Cuore Io Chi C đâu In generale Vedere call A questo punto Che non siano Snorlax Rest Sleep talk E se Si prega Eh qua Avere Zarda Aiutava Eh che cazzo Volete che vi dica Non neanche troppo Perché se vuoi Zarda Slash bomb Fish shadow wall Muore Molto più rognoso Di quanto credessimo Sabdos con una volante Non butta giù Meno Sor Si peccato che poi dopo Shander non butta giù Sabdos che è un po' come un D'Alea Sto piccolo dettaglio matto Eh Un piccolo dettaglio Incredibile quasi Quasi impensabile Per l'essere umano Ma Earth Power Non dovrebbe mai arrivare Raga su Snorlax Ci troppo è un disastro Ma dubito A meno che Lì hanno un predileaker Earth Power Qualche assoluto Non credo Ed essendo che non puoi ospitarlo Non puoi dire Né a meno Gioco da Elfax Mossa prendi Will Wind Gli fai fare switch out Grande idea Poi entra 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 Shander E allora Si è un punto a capo Bravo Lui ha fatto Dobbio Chloro Lui ha fatto Will Wind Avanti a Shander E lui ha perso Snorlax Cosa hai ottenuto Niente No Non è una buona idea Parlo di usare Su Shander Bro ma Shander È l'ultimo Pokémon In teoria Per come l'abbiamo Plannato Cosa state dicendo Ragazzi Avete seguito il plan Per come l'abbiamo Ipotizzata Shander È l'ultimo Pokémon E Snorlax Si trova davanti A Shander Solo quando Shander È l'ultimo Pokémon Cosa faccio Whirlwind Spazzo via Gli alberi Mi ero perso Quale il plan Eh Magino Non ho risposte Raga Quel Venusaur Lord Bruce Hai mai sentito Parlare di Rest La mossa epica Dei Pokémon L'idea sarebbe Quella di tirare Rest E poi Non credo Che tu voglia Prendere 50 Da 50% Da Shander Flamethrower Giusto Son Eh Coppoltron Chi cazzo me lo tiene? Chloroblast E outspeed da Venus Ragazzi siamo sotto swamp Forse non vi è chiaro sto concetto No in questa fight Non outspeediamo mai se non con le priority Chi cazzo mando? Allora suppongo che a certe condizioni Io posso fare Sì ma con l'isopod che cazzo vuole fare Con first impression Oddio con l'isopod Se fosse full vita E per come l'abbiamo planato su iDragon è full vita E fosse Careful Tankerebbe un Chloroblast Aiuterebbe con il recoil Per poi fare sucker punch Sempre tipo un 38% In realtà Chloroblast ti rimanda indietro Però con il recoil Gli faresti ancora un pochino Non lo so raga È tutto È tutto un disastro E suppongo che Se andiamo troppo in difficoltà su Snorlax La play potrebbe essere Sack di Lanturn Lui prende 40 42 42 Poi con una priority generica Doresti essere riuscito a shottarlo Con tutti i recoil che ha preso No Suppongo che Switchare blind Dentro l'Hanturn Ne sa carlo Per fargli prendere Il recoil con Chloroblast Sia ok Giusto E poi in caso Shandlur avresti Cioè potresti banalmente Entrare di Sì c'è Golisopod Lo kill E poi in teoria Dorebbe gestire anche Venustaur Cioè anche Shandlur È che non credo di avere Non credo di avere soluzioni migliori Non le trovo Se non è un'altra C'è che dire che Lanturn potrebbe Non sarà mai full vita Quindi lui non prenderebbe Quel 42 Però non ho proprio risposte Contro quel Venus Ora un po' Prescindere che non siano Snorlax Six sludge bomb Six Subdos viene scopato Nel mentre che tu fai Quello che dici Venustaur fa tre attacchi Vi ricordo Che loro Ci outspeedano Subdos non sta sopra Venustaur De speed L'unica cosa che avrebbe senso fare Con subdos è Con subdos è Fare un vol switch Super Cioè raga La verità è che il sabdos non regge Do più hit Tutto qua Sludge bomb Fa quella roba Hit Switch in Più due hit È morto Non fa in tempo a giocare Quanto fai di air slash 54 E dovresti comunque avere i safety goggles Dai ma lui qua di sicuro Tira sempre Chlor blast Raga Se è una 120 Lui entrerà su qua Acquavalla C'è anche da dire che Snorlax È molto realistico Che entri No Entri Su Snorlax Ha la chance di uccidere Shanduro Che sia abbastanza vista Vita sia voglia Ma realisticamente Non succede mai Probabilmente Vuoi saccare davanti A Venusaur Per poi killare Con una priority Che può essere Volendo anche di qua Quo vado Se ce la facesse Però qua Quo vado Non vuoi che giusti Shandu Golisovol sarebbe meglio No Giocherò con questi 6 Giocherò con questi 6 Allora Qualcuno lo vuoi Unnerve Puzza di merda Veramente Da ogni dove Impish Va benissimo Su Kingambit L'item è la sage Perché se Kingambit Va a più 2 Vuoi reggere Se Kingambit Va a più 2 Sullo switch In vuoi essere vivo Invece più pistolare Call of Boston Insomma Beh oddio Sembra che me Con Snorlax Rischia una quantità Di crit indecenti Indecenti Non ho alternative Cioè tanto Non la sfido Allora Questa in realtà È una cosa interessante Chloroblast Credo abbia 5 pp Perché questo Questi cazzo di Dex Non dicono le cose Chloroblast Avrà 5 pp No? Sliptalk O pesca No O pesca O spaw O zanelbat O rest Snorlax Sì potrebbe riuscire A stallare Chloroblast Probabilmente Doresti Vuoi dare tipo 8 crit E diciamo che Se non ti arriva Nel momento decisivo Il crit Puoi Possia provare A ragionare Il sac Anche di 2 Pokemon Non è pp maxato Sì sarebbe pp maxato In caso sarebbe 8 Certo scusatemi Lo do per scontato Ormai Le mosse di Poco Sono queste Non possono essere altre Sono perfette Allora Fammi solo vedere Se Kingambit Spockerone Anche lui è scockerone Magari con Low kick Ci basta Sarebbe Sarebbe Bellissimo Se Killassimo Ah ma Kingambit Farò l'attacco Non riusciremo mai Ad essere con Quaquaval Sotto Venu No No Fanculo Giochi close combat Perché se Kingambit Switcham Cosa che secondo me Non fa Oh mer Beh non tira Ironhead Su Quaquaval Vero Non flincio Che succede Siamo fottuti Però Se Quaquaval Se lui switch A Kingambit Per qualche ragione Davanti a Quaquaval Ed entra di Venusauri Settare close combat Ci piace No Mi fai Più danno Quindi si Close combat Liquidation Acquaggetto Di Quaquaval Va bene Perché Shande Immagino E flip turn Va bene Perché Lacrime Suppongo Sarebbe diventato In c'era casa Si sarebbe molto divertente Allora Golisopod No aspetta Incineror Allora Incineror Si abbiamo fatto Careful Allora Golisopod Molto importante Non so l'altro Dal 4 Un attimo Allora Golisopod Oh se lo gioco Careful Posso reggere Un Chloroblast Di Venusauri E poi rientrare Quindi vorrebbe dire Avere Un suo recoile In più Se fossi a full vita Cosa che sui dragon Potrebbe anche succedere Secondo me Cosa rischia Golisopod Sui dragon Nulla Se il cineror Lo fai entrare In free switch No L'unica cosa Che rischiamo È che i dragon Faccia switch out Probabilmente farebbe Switch out Con questo set Su primarina Quel punto Potremmo semplicemente Ripetere Il tutto Lato negativo Sarebbe se Insi Prende troppi danni Ma Insi Non dovrebbe Quasi mai Prendere troppi danni Il raccoglio Il raccoglio Di lifehorm Ci potrebbe mai Punire No Non credo Vero I marine Entrando su Golisopod Comunque Di first impression Lifehorm Non dovrebbe Coleotero Resiste Folletero Resisteva Coleotero Potrebbe entrare 31 37 Ci frega qualcosa Di acqua jet Non vogliamo dare qualcosa Poison jab Che vorrei Non baitare Switch Strambi Allora Con questo set Venus Venusa Ormega Per mia esperienza Se hanno 13 Raramente entrano Se questo numero È 13 Se la switch Quindi se Sono due hit che io E outspeed Non entrano Entrano Se reggono di più Quindi prima Non dovrebbe mai Entrare Immagino che Kingambit Possa entrare Ma L'ingresso Di kingambit È anche Ok Potrebbe mid 14 Non so se qui Cambia qualcosa Ma Se lui becca Così tanto Di first impression Suppongo Che a me Vada bene Perché comunque Entra kingambit Prima Quindi Quaco È più safe E potrei Beitare dentro Venusa Orkun Quaco Al fare un danno E fare subito Il matchup Però rischi di Anticiparmi Chandelure Mentre invece Oh cazzo Questo è il kingambit Sbagliato Tra l'altro Ma Cristo Dio Ok Vabbè Ironhands Entra sempre Se non è morto Quindi va bene Però immagino Che buttando dentro Marwak Si può sempre Resettare No Il tempo Quindi Suppongo Sì ok Prima o poi Viene giù C'è un modo Per dare Stolgo Leech life A Golisopod Posso dargli Una mossa Che invece Secca Kingambit Ciao Elnano Tra un attimo Combattiamo Siamo un po' Preoccupati Perché la fight È un po' Un bel po' Complessa La metti di break break Qualcuno L'ha lasciata Sulla nave Immagino Che Brill run Su Leech life Non Beiti Mai Kingambit Sem Questo vorrebbe Vorrebbe dire Togliere Leech life Però Come la sensazione Che facendo Così Tra l'altro Drill run Ha il vantaggio Che potrebbe Lasciare fuori Anche Iron hands Forse Probabile La mia paura E non mi ricordo Se questa roba Era confermata È che Elia Non legga First impression Riguardo agli switch Cioè nel senso Se non sei Il primo turno Non la considera Ho avuto Prove contrastanti Di questa cosa Ancora non l'ho capita Però questo Vorrebbe dire In caso Sì che potrebbe Entrare Venus Aurum In realtà Sni Sì Metti comunque Drill run Su Leech life E poison jab Su liquidation Allora Poison jab Ti puoi mettere 79 Una roba del genere 84 Credo che sia La cosa giusta Raga Ok In questo modo I dragon Dovrebbe sempre È difficile Che switch Tra l'altro First impression La considererebbe Perché turno 1 Sì no Non dovrebbe mai Switchare Secondo me Il dragon Ora In questo modo E poi Snorlax Oh mamma mia Cosa ti sto chiedendo Non so Se Ci sono modi Migliori Oltre a Rischiarsi Snorlax All'inverosimile Ma Devo anche Io Una Ci sarà anche Carina La Snorlax Ma non la vuoi Allora Zenedbat Per colpire Non c'è niente Per colpire Miglior Di Zenedbat Con aumento Per tre mesi Sess Last resort Sarebbe Un po' Non credo Lui ha Tick fat Quindi non le ice Neanche Le fire Sai Che è Irrilevante No Credo che Zenedbat Sia Scusate Ho sbagliato Credo che Zenedbat Sia l'idea Migliore Che abbiamo 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 un plan Che Un po' Un troiaio Forse Sì E non abbiamo Niente di meglio Di Igor's Power Su Chandler Voglio dire Che cazzo vuoi di più E Q non ce l'abbiamo Come MT O ce l'ha andata Mi ricordo già più Non ce l'ha andata Tipo Giovanni No Allora vai Di Igor's Power Vai in via vittoria Immagino Cosa ho fatto Sono matto Fabiano ha fatto vincere Bologna Il 94 Ma cazzo Giocava il Bologna Non mi sono più curato Della formazione Al fantacalcio Non l'ho aggiornata Vabbè che te ne aprivi Disco Rupski 7 immediata Easy Nel Q non è in via vittoria Ma dopo viene Fissato con Mudkip Ah Ok Vabbè Cambia talmente poco Che Ah interessante Potrei doverlo fare Allora Ah non lo so Ragam Tra l'altro Cioè con questo set qua È ovvio Che Iron Hands Stia dietro Giusto Fire Punch Fire Punch Mi serve per Venus Orsi Allora Maruacalola All'82 Bone Meranga Willow Whisp Thunder Punch Fire Punch Allora in queste condizioni Aspetta Aspetta Andare sull'altro Meccolatore Così sono sicuro Di prendere i roll Ho Venusaur Normale Entra sempre Ma non ha Tick Fat Quindi non entra Sempre È a 13 Chandelure Non entra mai Perché c'è Bone Meranga Prima di una In realtà Credo posso entrare Thunder Punch Fate l'hit che io Penso posso entrare King Gambit King Gambit Può entrare Immagino che spammerò Willow Whisp No? Contro Iron Hands Un pochino In realtà dovrei muovere I miei terre Bonebang Merda se tank Stavo pensando Magari di dare Ice Punch Anziché Fire Punch Che tanto Mi torna utile Solo Su Venusaurum No Tieni Fire Punch La peggio Fai entrare I dragon Oh cazzo Oh cazzo raga Mamma mia Questa è un'altra battaglia Non pensavo ma Questa è bella tosta Ice Punch Ice Punch Non sarebbe una call Su i dragon Nel nano Ovviamente Sarebbe una call Una roba per non farlo switchare Nessuno è così folle A tirare Ice Punch Con Marwak Per non saperne leggere Né scrivere Metti tutte le nature Che droppano la speed Tanto voglio dire Giusto per essere sicuri Di farle corrette Non Non impish Ma relaxed Non careful Ma sassi E non careful Ma sassi Pure tu Vuoi fare una bettina Joe? Falla Sì Sì falla Va bene La bettina è Si vince Con due o più morti Oppure no Mi se perdo più di un pokemon Quella è la discrimina Perché un sacco è molto realistico Lanthorn Due Se le cose van male Se le cose van male male Perdiamo Ma vabbè Quello è un classico Relaxed Colbur Lighting Rod Sassi Assault Vest Intimidate Sassi Citrus Eccolo qua Whitewater 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 Absorbo Contro Primarina O preferisci O preferisci Credo che non faccia molta differenza Lo faccio Lo faccio volta absorb Per il semplice fatto che se non tira draining kiss per me è meglio Giusto Giusto Bravi Bravi Eh noi glielo avevamo cambiato dopo una giocata su foul play evidentemente GG Il bro in chat penso mi abbia appena salvato la run ammesso che la run si salve Nice Lanturn Sassi Citrus Volt Absorce Screech Mamma mia scusami Lanturn per quello che sto facendo Focus Relaxed Unnerved Close combat Slip to Aqua Jet Liquidation Sassi Safe Goggle Stick Fat Sì First power Znite But rest Slip Talk Goal is Vod Careful La fuck Goal is Vod Non che cambi qualcosa Ma Va bene vado un attimo a pisciare poi si gioca Tanto piangi star grazie per la sub me l'ero persa e anche l'hat credo 58 minuti fa non so se T'ho ringraziato nel caso lo faccio Tanto piangi star grazie per la sub me l'ero persa e anche l'ho 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 persa e anche Bene, eccoci qua No, nessuna visione post bagno, raga, purtroppo Fanculo, ma non c'è nessuna Vaffanculo, non c'è nessuna Cazzo di palude, perché devi essere stronzo? Va bene, raga Andrà come andrà Il plano è un po' strano Soffrirà molto Snorlax Rischiamo di perdere Snorlax Per la verità, tra le varie call Da lega è quella su cui farei meno Affidamento, perché senza belly drum non credo che sia Così buono, ma Che volete che vi dica? Fondamentalmente il plan A una certa consisterà nel Tra l'altro Insieme, tra sui dragon, poi First impression, sì, a quel punto Colisopod dovrebbe baitare, non lo so Perché in teoria Eh, dovrebbe baitare Kingambit, no? Oh, vero, lo so Ah Ho paura che Colisopod Sia una call ottima Ma che ci Posso fregare un po' Giusto per informazione Giusto per pura info Grazie a tutti Ehi, wait, aspetta Scusatemi Questo qua è il calcolatore Buono Ok, perché non è ancora venuto Come lui fa 27, 32 di Cloroblast Prende 13, fai 15 Quello è un 15 Quindi dovrebbe Dopo 7 Cloroblast Dovrebbe morire E che se Venusaur entrasse Prima tipo su Golisobot sarebbe un po' strano Penso D'altra parte che Golisobot non reggerebbe Cloroblast Più crit, più life orb, giusto? No Sto pensando di togliere a Golisobod Aspettate, torniamo a calcolare un attimo Giusto un attimo Sto pensando che potrebbe avere una sua logica Perché quello che io non ho calcolato è Golisobod Dopo che ha killato i dragon Che lui killa Dopo una U-turned-in-si Che è il concetto Secondo me Cosa cazzo baita? Che potrebbe baitare Venusaur Potrebbe essere Positivo No, perché tu switchi sempre Perché se becchi la slip È completamente In teoria Run E Sucker punch Potrebbe fare sucker punch Su Su Venusaur E danneggiarlo un po' No, golly non ha flip turn Sennò sarebbe un po' Un po' troppo forte Secondo me A te non interessa più di tanto Avere il one hit KO Su i dragon In realtà Perché tanto Lui prende già il danno Da U-turn Quindi forse dare expert belt Va bene Perché poi Se dovesse entrare Venusaur Cosa che a sto punto Immagino possibile Voglio vedere i danni Ma non dovrebbe comunque Entrare in free switch Chandler dovrebbe comunque Prendere abbastanza Prima rina Dovrebbe essere Tranquillamente A terra Anche con la expert belt King gambit Con la life form faremo Con la life form sarebbe meglio Ma con la expert belt è probabile che tu Bayti king gambit Perché non hai 2 hit KO Oh wow Se lui mi addormenta Bravo Se lui mi addormenta Golisopod Fuck Se lui mi addormenta Golisopod Poi snorlax non può più fare rest E lì abbiamo perso Wow Che call Bravo Non mi era venuto in mente Questa è ottima Vedi che 400 menti Sono comunque sempre meglio di una Merda Certo Se lui mi addormenta Io non posso auto addormentarmi Con il resto Sarebbe la fine Però ha maggior ragione Se tu dai expert belt A sto idiota Non baiti venus Aura Se dai life form potresti baitare anche venus Aura Non in switch in Ma dopo la kill di dragon Il downside E' che se tu non dai life form Forse sui dragon Puoi entrare king gambit Ma credo che possa avere più senso Non fare entrare subito Sino Troppo importante Expert belt Taggo l'isopod Non life form Sperando che questa ultima idea Non ci fottam Gente buona fortuna Il plan è quello che è Speriamo di uscirne E speriamo se ne usciamo Di uscirne In le migliori condizioni possibile Una massimo due morti Non di snorlax Sarebbero accettabili Per perdere L'anturn E qua Sarebbe ok Ma Questa fight E' Tremenda E' Probabilmente Lo è più di brendan Perché Se non altri Pokemon di brendan Oddio in realtà Non lo so Ho la sensazione Che su brendan Si abbia un matchup Migliore Qua è tutto un po' Un casino Con quel venusaur Fa un culo Vai Bene Caratteristica di questa lotta La condizione A cui andremo incontro È la palude Vuol dire che la velocità Dei nostri pokemon È ridotta del 75% In buona sostanza Non auspidiamo mai Se non con le priority Ok Ironhands Dentro Marowak Mi son cagato addosso Questa qua Però è semplicemente L'animazione della palude Va bene Non lo sapevo Allora Questo è il giochino Indovina quale pokemon Viene wallato da Marowak In realtà Essere onesti Marowak Non lo walla così bene Perché questo ha knockoff Ma Willowisp Qua dovrebbe arrivare sempre Knockoff Perché noi abbiamo un item E lui fa danni Ok Il nostro item è la colbur Qui dovremmo subire Circa 33% Ok Willowisp Entra garantito Perché questo qua È Marowak Un tipo fuoco Adesso Ora Ironhands È decisamente Meno minaccioso Ora le sue Knockoff Dorebbero fare circa 15 E noi con bone merang In tre hit Aiutati dalla burn Lo tiriamo giù Il problema è che qui Potrebbe essere tranquillamente Uno switch sui dragon In realtà Ci importa il giusto Perché lo switch sui dragon È quello che vogliamo Ok Non ha switchato sui dragon Questa è Minchia ma che danno è? Da burnato Senza light Ho calcolato male Cazzo lo sta pescando Sto danno Knockoff Merdan Perché c'era la colbur Di mezzo Lo stavo calcolando La colbur Questo è un 20% sempre Ok Marowak Non riesce a gestire Ironhands Suppongo non un buon inizio Giusto? A 99 55 Marowak Mi sa che devi doggiare Un crit Sarebbe knockoff Tanto non ho Non ho alternative Non ho alternative Ok Sapete cosa è successo? Mi sa che ho visto Ho visto il danno Di knockoff Con l'item Ma con la colbur Quindi lui fa un 1.5 Più di quanto pensavo Possibile che switchi qui Iron Suppongo Oh si Jodem 98 Ha rinnovato L'abbonamento Per 16 mesi Ok Va bene D'accordo Qui il brutto È che Lui legge kill Quindi si non entra Su Nasty plot Va bene Immagino che troveremo Un modo Non so quale Ma un modo Lo troviamo Allora Dentro Insim Qua la cola È un po' contorta Ma dovrebbe essere Ideale No Non hai mai subito Goalizbot Qua Goalizbot Non kill Ok Questo è un danno Ridicolo Quello che succede Ora è Quello farà quasi Sicuramente Nasty plot Tu vai a fare U-turn Bene Ora Goalizbot Ce l'ha sottoscacco Dovrebbe tirare giù Questo pokemon Credo che Credo Credo che ci sia La possibilità Che qualcuno switch Non Ironhands Potrebbe a questo punto Entrare di Goaliz E di King Gambit Che sarebbe ok Perché non sarebbe Boostato Quindi comunque sarebbe Una buona situazione No Non è mai fake out Non ha alcun senso fake out First impression Nice Ok Questo è morto Ora dovrebbe essere King Gambit Spero Spero che sia King Gambit Perché gli altri Sono tutti due Hit KO In realtà in queste condizioni Forse potrebbe essere Addirittura Venusaur Questo sarebbe un disastro Ok King Gambit Bene Ottimo Qua King Gambit Ha solo uno Più di potenza Il che va benissimo Sono abbastanza convinto Che vada di Sword Dance Qua Quaval Ora Qua Quaval Ha l'abilità Nerve Quindi annulla La Chouple Di King Gambit Ok Perdiamo la Sesh Ma siamo safe Se qui switchassi King Gambit Sarebbe il Delirium Effettivamente Poteva fare Knock off Se Decisamente Se switchassi King Gambit Dovremmo adeguarci Prima Riena Stiamo Stiamo andando in merda Ragazzi Ve lo dico Oh Bel crit Speravo danzasse Sto coglione Però certo Knock off Aveva una buona priorità Perché avevamo un item Questo è Draining Kiss L'Huntour è la nostra Call Supreme Arena Anche qui L'Huntour Ne ha una Call Decisamente contorta Pronti per cringe Allora Lui recupera tutta la vita Credo che qua Sia ancora invogliato A fare Draining Potremmo fare anche Calm Mind Qua è Screech Ok Non ci credo L'Huntour Prova di nuovo Ok Non ricordavo nemmeno Che Screech Potesse missare Sì è un 85 Una volta Me le gioco Ste percentuali di merda Ok Qua siamo Safe Da crit Di Drain Punch Credo Ma quello Che potrebbe Succedere È che È che Poi dopo Non dovremmo mai Morire di raccogliere In realtà Comunque il charge Piggiola Ti odio È un disastro Raga È un disastro È un disastro È un disastro È un disastro Credo che Credo che sia persa Cioè a meno che non faccio qualche power move ma Kingambite Se entra sempre su L'Huntour Finisce male Merda 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 Non ho pensato a Primarina Non ho pensato che potesse entrare Primarina su Kingambite Merda 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 Se Inzi perde la Salt West è un problema Merda Merda No perché abbiamo killato i Dragon vero Sarebbe fastidioso su Shander però Allora il punto è che Quacoal ha ancora margine Però Allora qua è sicuramente no cough Quacoal ora che senza item giustisce Il problema è che realisticamente lui switcha Di nuovo Poi rientra Primarina Non gli fai un cazzo Fa Draining Kiss Rientri con l'Anton Sei punto a capo Poi rientra di nuovo Kingambinte Sei di nuovo punto a capo Poco al flip turn Nell'Anton contro Primarina Irrilevante Cioè no per carità Non è irrilevante Semplicemente Poco utile No l'Anton non rimane mai in campo ragazzi L'Anton non switcha Tenere l'Anton significa perdere Certo che non abbiamo un flip turn su l'Anton È un'idiozia flip turn su l'Anton Magari non legge anche il fast wardens Ok qua a salvo crit siamo safe Ma lui è switcheram Sigh flip turn ok non ci credo bel crit qua qua oh cristo dio immagino sia quasi una buona notizia vero entra snorlax frame il dragon è morto potrebbe rientrare anche di prima arena volendo potrebbe rientrare di kingabit bestemmio ok raga è un macello verità è questa è diventato un macello è che poi vabbè qui la recovery che ha draining keys di prima arena è insensata devo tiltare molto importante non tiltare allora hyper voice in generale è molto più probabile doppio igors power non killam no ha senso che abbia messo prima arena su venus ragazzi se conoscete la cpu di radical red ha senso è che il plan era killare prima prima arena ma non ho visto lo switch su kingambit su lantern che poi tanto non avevo call lantern qua è buono lantern qua è un coglione perché gli ho dato volt absor perché in terreno non dovevamo mai trovarci in questa situazione e lo preferivo hyper voice qua ho dato volt absor perché era un ipotesi di entrata su iron hands però o comunque su iron hands burnato poteva rimanere lantern il problema è che iron hands non sta entrando perché giustamente ha switchato a bassa vita per qualche assurda ragione in teoria a bassa vita se no possono switchare perché preserve death stavo ipotizzando di lasciare dentro snorlax io addirittura ragazzi di giocarmela di rest ma non basta perché Igor's power non fa stavo pensando a colisopod stavo pensando di stirare su colisopod allora noi di poison jab facciamo 70-80 tram è un roll ma lui è left over se si ripiglia quello che potrebbe succedere è che colisopod tanka tutti i suoi hit e poi ci dà un free switch su lantern che potrebbe killare di spark credo che sia colisopod qua siamo sempre safe dal suo crit che non attiva la roba lato un po' negativo è che se lui fa calm mind e non crit comunque non l'attiva ma il contato che si curerebbe di draining kiss non se non lo usa ovviamente se lo usa è un po' più fastidioso ma comunque entrerebbe l'anturne sarebbe già danneggiato se sei sicuro c'è due GTA per voice può andare il ghost in no? eh qualcuno non ha studiato l'abilità di primarina però goli ok credo abbia forse qualche piccolo roll per killare ok unlucky oh avevo sucker punch poi per finirlo chi entram? thanks goli mi sa che è stato bello è stato bello con l'isopod grazie per tutto quello che hai fatto è stato bello con l'isopod non so come affronterò brandon ma perchè cazzo è entrato lui o sucker punch perchè è entrato? perchè non è entrato? perchè kingambit perchè non è entrato kingambit qua? perchè cazzo non è entrato kingambit? sucker punch crit non killa laga non ha speranza è flamethrower e flamethrower killa con ogni roll qua la sfortuna è stata che primarina ha fatto calm mind e se non avesse fatto altro probabilmente avrebbe attivato sarebbe andata diversamente qua se lui avesse fatto una mossa normale poi l'avesse rifatta avrebbe attivato emergency exit saremmo stati tranquilli ma purtroppo ha fatto calm mind liquid voice ha fatto roll bassi non si è attivato e quindi adesso muore lui grazie con l'isopod ok perchè non lanthorn? che non avete seguito il plan e parlate purtroppo ora con qua qua l'abbiamo acquaggetto ma se io mando qua qual e killo con shandlun rientra primarina e finiamo nel loop di prima quindi immagino che sia insicua no prima lina è morta giusto si scusatemi ho uscito prima lina io ho uscito allora quindi dietro a iron hands calcoliamo ragioniamo dietro a iron hands bernardo a kingambit danneggiato ancora venusaurum credo che qua qua l'acquaggetto sia sempre buono il dramma è se shandlun rientra ma credo che vada di kill perchè ha energy ball no? non vede il mio acquaggetto più probabile che switchi su insi se entra venusaurum switchi su snorlax se entra kingambit rimani con qua qua le punti a killar si scelta giusta si acquaggetto kill sicuro merda non ho considerato che kingambit si boostam è rimasto dietro kingambit adesso qua qua l'ha preso troppi danni e non riesce più a gestirlo immagino che insi intimidate into sack qualcosa sia vabbè senti snorlax e non è ancora arrivata la parte difficile della lotta la parte difficile è questa wow leggeva kill anche di questa make sense no poison mi aiuterebbe grazie ora è zen headbutt e poi rest potrei addirittura fare igor's power in predict se sono un matto ma qua non credo che sia mai kingambit perchè legge il danno di ignom oddio potrebbe essere regge talmente tanto quella roba 3640 tram 3640 tram Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prima su Zen è entrato prima Arena. Capito? Non lo so. Hai Gore's Power su King Gambit, la verità è che ci guadagno comunque poco, raga. Suppongo che su Sword Dance guadagnerai... Fa un culo T-Ring, lo sapeva. No crit? Ok, ora... Il cervello mi dice quasi... Allora, aspetta. Qua possiamo provare a fare una giocata un po' strana. Ma devo ragionarla bene. Il punto è... Se io... Qui mando l'Hanthorne... Potrei avere un free switch su King Gambit. L'Hanthorne ovviamente morirebbe. Fa un culo sto calcolatore di merda. Spero gli scoppi il quorum. Vi direi che ho il prende 31. Decisamente morto. Posso che entri King Gambit e non Ironhands. Tra se Ironhands o Marwak, immagino. Quello che però succede è che a quel punto King Gambit si entra... Ma... Abbiamo killato quattro Pokémon. Questo significa che qua qua valla... Rage. Max roll di Brick Break su Quokovall sarebbe 113. Lo fa di A di switcharsi il recoil. Eh raga, non so. Non riesco a spiegarmi allora. Se entrasse Ironhands... Quokovall non killerebbe mai di acquagetto. Mai. A quel punto quello che succederebbe è che Ironhands avrebbe 5 kill, entrerebbe e killerebbe Quokovall. E lì penso che sia game over raga. E lì è davvero game over. Ma lo sarebbe a prescindere, no? Sack di Lanturn. Ok, questo è morto. Grazie Lanturn. Grazie mille Lanturn. È stato un gran Pokémon. Ok. Ok. Grazie mille Lanturn. Ok. 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 Il dramma E che se tu fai slow U-turn su Sword Dance Perdo Quindi si può fare fake out slow U-turn Ma su King Ambit finisce malissimo Se lui fa Sword Dance finisce malissimo E in si non fa niente a King Ambit Raga il problema è che a prescindere King Ambit si boosta Perché prendiamo una kill Se entra Iron Hands a prescindere abbiamo perso Perdiamo a prescindere Se entra Iron Hands Oddio a prescindere Avrebbe... Oddio Si King ha più 5 sweeper Quello che potrebbe succedere In realtà allora Brick Break Su Quaquaval avrebbe 25% di One Hit KO Più crit ovviamente Se io mando Quaquaval dentro King Ambit Ok Se io mando Quaquaval dentro Iron Hands Posso Switcher dentro In Sim Lui è burnato Sarebbe a meno uno Il punto ragazzi è uno Se io entro con Incineroar e baito Iron Hands Seguite il discorso Perché altrimenti vi spacco la faccia Se io entro con Incineroar Entra Iron Hands Io gestisco Iron Hands con Incineroar E magari killo con Quaquaval L'acquaggette Ok Ma se entro con Incineroar Lui manda King Ambit E fa Sword Dance Ho perso Garantito Ho perso 100% Se io mando Quaquaval Ed entra Iron Hands Posso ancora recuperare Quaquaval Manda King Ambit Bella semplificare Ok Quaquaval Ok Quaquaval Devi Reggi Tanka crit Ti prego Quaquaval Ti prego Quaquaval Ti prego Quaquaval Bravo E ora In si vince Ti prego Ti prego Sì, insieme. Immagino... Wait, se fa Drain Punch è un disastro, in realtà. Suppongo farò U-Turn, no? Lui con Drain Punch prenderebbe 8.6, 10. U-Turn più Burn into una Priority qualunque d'ha vinta. Easy. Ok. Immagino di dover essere contento... ...di averla vinta, vero? Per quanto era complesso il match-up, ma... Eeeh, Golisopod... La perda di Golisopod è gravissima. Non so come gestirò il prossimo Pokémon, la prossima lotta adesso. Però, dai! Siamo ancora vivi. Questa, di Golisopod, è nettamente la morte più tragica della serie, ragazzi. No, qua, qua, scusami, tu sei un grande. La morte di Golisopod... ...è abbastanza tragica, ma... Lanturn, grazie. Eeeh, ragazzi... L'ho giocata da Dio, eh? Non penso che si potesse fare meglio. Per come si sono messe le cose. Non so se il plan era il migliore, ma... Penso di averla clacciata. Ho fatto un paio di giocate abbastanza... Abbastanza particolari, ma... Shandellur ha fregato. Purtroppo, Golisopod è stato molto sfortunato, perché... Se si fosse attivato Emergency Exit, era tutto più tranquillo. Ok. Adesso buona fortuna. Altra battaglia con la Palude. Giornaste morti, siamo a 24. Abbiamo perso uno dei Pokémon più forti, raga. No, il K è uguale. Sì, anche Brandon ha la Palude. Dobbiamo essere... Dobbiamo essere contenti di essere usciti, raga. Eh, Goli era molto utile su questa, sì. Immagino che troveremo un'alternativa, raga. Non riesce molto a fare. Oltre a prendere un'obbligatoria, tipo altre sette in Via Vittorium. Ok. Dunque, quel SEPTile come lo potremmo gestire? No, almeno stavolta il calcolatore è tutto bene. No fucking idea. Non ne ho idea. Beh, nel senso, forse con un SAC potremmo anche buttare dentro un pazzo. Allora. Oh, Tyrantrum. Tyrantrum. Con la Session. Cazzo, gestisci sta roba. Suppongo un Will Wisman. Buona fortuna a tirarlo. Sì. Waller in the Ballet Seed l'avevo già calcolato. Prende un'eternità. Eh, voglio dire, adesso ho Dewgong, no? Su... SEPTile. Ma Dewgong non ha attacco fisico. Perché avrebbe Ice Shard, dico. Ma non ha attacco fisico. Proviamo a trovare gli Hard Counter. In generale. Forse Mega God, però è una buona idea, sì. Allora. Explode c'è Jellicent. Empolion che fa Skull di Ice Beam. Con Calm Mind. Suppongo che... Clodsire sia ok. Empolion quanto ha di Special Attack? 111. Clodsire di Ice Beam. Però non dovrebbe prendere troppo, no? Per il tas 4, 41. E direi che con doppio e Q kill. Sì, lui potrebbe giocare a Rust, ma... Lui è più veloce di me a far Rust. Quindi non entrerebbe Q. No, entra Q, scusatemi. No, scusatemi. Sto sbarionando. Calmatevi. Sì, Clodsire è ok. Nel senso che Careful dovrebbe riuscire a gestire coso... Ah no, però merda. Eh no. O gioco, no. Non è vero Clodsire Fatica. Scherzone, Clodsire Fatica perché non è contemporaneamente Waterabsorbed Hammer. Quindi... Entrassi sui Calm Mind sarebbe un po' drammatico. E entrasse su Skull sarebbe ancora peggio. Dugong potrebbe essere carino su Empolion Sim. Credo che Wolverine sia molto buono su Lando se lo gioco Assault Vest, vero? Merda, merda, ma che danni prendo da Earth Power? Ah, perché è Sheer Force Assault Vest? Pensavo con la Assault Vest facesse meglio. My bad. Dreadnome da su Empolion. Beh, devi entrare su Skull. Non si è fatica. Sabios per Sceptile. Dual Chop. Sabe da calcolare. Ah, Tyrantrum. Vediamo se Mega Slowbro è una Call buona. Una lead di Slowbro che va subito di Mega non è mai mala. Lui arrocchiede, quindi non prendere Goil. Capisco. Mega Slowbro è sempre. Mega Slowbro vince sempre su Tyrantrum. Quindi sì. Slowbro è sempre su Tyrantrum e credo che tirerà sempre Slakoff. Perché... Cappello. Se il Tyrantrum switcha puoi sempre rientrargli dentro. Ehm, immagino che Ice Beam, no? Penso che sia anche Winit che io, se non fosse per la Session. Quasi. Non è non killi. Non vai e non killi nessun po' comunque la Session, purtroppo. Amaro Akasha, do Bone, Fire Punch e Bone Meranga. Ed è più veloce di me. La verità è che... E Altic Club, chiaramente. E Asward Dance. Ma che cazzo gli vuoi dire a questo? Porco Dio. Porta la vita a full. Beh, allora, su Marowak è molto buono Wolverine. Purtroppo non ha priori. Ma... Quindi avendo lui Sword Dance andando a più 2. Ma non sei mai giù di crit a più 2. Però poi fatichi a killare. Però potresti giocare Mystic Waters. A quel punto sarebbe più o meno kill sempre. Dipende un po' su dove entra Marowak. Perché se Marowak fa... Shadow Bone conviene Leftovers. Immagino che sia l'idea migliore, no? Possibile che su Empolio non ho qualcuno di umano. Fottuto Ferraligator non riesce a... O meglio qualcuno speciale. Ma Ferraligator ha Joe Locke. Che non blocca però in campo l'avversario, giusto? O non blocca a me? Come funzionava? Se io lo tiro blocca l'avversario, ma non me, no? In realtà Ferraligator ha la risposta migliore che abbiamo. E soprattutto non sa. Ok, gli impedisce... Eh, perfetto. Ferraligator è ottimo. Ferraligator ha col suo polio in tutta la vita. Lo giochi Lam. Se ti burn a discalda. Voglio dire, se ti fa back to back burn a discalda sarebbe estremamente fastidioso. Ma anche con la burn a Ferraligator dovrebbe gestire. Oh no. Da burnato farebbe 35. Sì, credo che sia. Dove andare bene anche per Marowak. No, non va mai bene per Marowak. Perché Marowak low speed? Perché siamo sotto la cazzo di Swamp. Giusto per sicurezza. Com'è Jellicent? Su Explode. Non c'è nessuna cosa che ci incula, no? No, sempre safe. E immagino di poter tirare Will-O-Wisp. Credo di giocare lo White Lance Will-O-Wisp. Jellicent. Di provare a Whisper in Switch is back o Sceptile per qualche assurda ragione. Che non è poi così assurda perché il bro è forte. Roast non è meglio. Metti che ti Frostbite in Switch. Sì, Roast è meglio. Giusto. No, ho pensato al Frostbite. In teoria questi 5 Pokémon sono buoni. Quell'Andorrus io, però, onesto. Non so che fargli. È velocissimo, non low speed o ha troppo coverage. Volendo il resto, se non vuoi dar back? Immagino che dopo un Joe Vlog si, ok? Danni che fa Dugong, ragazzi, sono elagerati. Cioè, in realtà, non fosse però Slider. E tu mi dirai, se mio nonno aveva le solite palle, era il solito cazzo di Flipper, no? E Shard non fa niente perché Dugong è un fallito del cazzo. Jason Suxplode non è buono. Bravo, The Gamer. Sì, è per questo che è qua. Suppongo che Gialycent possa andare sull'Andorrus a determinate condizioni, no? Adesso l'Andorrus contro l'Andorrus. Una E-Tace Beam non la reggi? No, direi di no. Di Rock Slide? No. Sì, già li senti ipoteticamente sarebbe una call. Dovresti saccargli nel muso, ma... Lui non prende neanche le call da Lifehore perché è un cancro. In realtà... Water Bubble. E Surf. Penso che facciano più di Ice Beam. No, forse fa la stessa roba una fan di più, lol. Spitech Empology si dice in una maniera incredibile. Buon per lui. In realtà, immagino, sì. Avrà i shard e shot tutti. Gialycent potrebbe andare sull'Andorrus. Se fosse full vitam, cosa che... Speriamo che sia. Empolio è un vasto lato. Empolio è un regalo ultimo dei problemi. Voglio dire... Se lui switchasse davanti a... A Feraligator sarebbe un po' strano. Cioè, nel senso... A parte che suppongo che possa succedere. Prima che arrivi Joe Lockman. Forse possiamo bait... Forse possiamo creare un set di Feraligator che non baiti tutti, no? Se gli do un Ice, se gli do Joe Lock. Se gli do una Water. Dovrebbe tritare tutti. Dovrebbe tenere in campo un po' leno almeno qualche turno e Joe Lock lo blocca. Però non è repositioning. Sì, certo che ce l'ha, ma non vuoi farlo. Sì, certo che ce l'ha. Basta, no? Di poco. Sì, Shuka Berry sarebbe un'idea. Il problema è che lui potrebbe switchare. Il problema di giocare Shuka... Sesh è sempre che con la nuova IA di Radical Red se switch non stai nella merda. Tink avrebbe Ice Hammer, giusto? Quindi da quel punto di vista è ok. probabilmente Tink avrebbe più senso Sesh. La verità è che dipende. Tink avrebbe più senso. Vi dico io cosa avrebbe più senso per Tink. Avrebbe senso saccare. E poi entravi. Ma non so se l'hanno. Ovviamente qui con Golisopod. Tu entravi. Eri safe fondamentalmente da tutto. 5-8 di Ballet Seed. Tu eri impish. Fai. First impression. Shot di sempre. E con la Citrus a meno di 5-8 più un crit. Sei sempre... Vinci sempre. E lui non se l'aspetta. Questo per dirvi che Golisopod era fondamentale per sta fight. E lui non se l'aspetta. Probabilmente ora la cosa che si avvicina di più alle sue prestazioni è Tinkathon. Ma devi saccare davanti a Sceptile. Evidente. Per far entrare Tinkathon in free switch. E... Secondo me vuoi saccare anche davanti a Landorse. Puoi abitare la Drago. Ti dirò. A sentimento entra una... A sensazione entra una grassa. Sul nostro team di tipi acqua. A sensazione... Ma è una mia proprio... Ma è una mia... Tu chiamale se vuoi emozioni. No? Cioè... Diciamo che la butto un po' lì. Ma secondo me... Ma non sono sicuro, eh. Ma se dovessi fare una scommessa, per dire. Ma se dovessi fare una scommessa, per dire. Ma se dovessi fare una scommessa, per dire. il santo viene annullato il santo viene annullato lui vede più danni di art power su snorlax che snorlax ice punch dai snorlax wow il pokémon su cui abbiamo una call molto migliore diciamo che non mi importa snorlax non killa l'andoros si abbiamo preso la pietra per me che evolvere snorlax ma io vi racconto sempre la fantastica storia che non si possono me che evolvere due pokémon in battaglia è una storia bellissima veramente strappa lacrime ve la consiglio all'appeggissimo dici che è slow bro mega se fosse full vita cosa che è penso con slacop possiamo vire a fare ce n'è sciottata con 5 hit un shifu con ice punch per non troppo la balle è vero esatto proprio lì non c'è dubbio ragazzi se li prende santo vuoi che non li prenda un shifu ti vuoi sapere una cosa ancora più divertente e non lo giocherò mai il post game di sto gioco di merda questa è una cosa veramente divertente il post game di sto gioco non lo gioco nemmeno se mi regalate 50.000 abbonamenti forse per 50.000 abbonamenti lo faccio tank fisico con avvi ragazzi ho già provato non succede un cazzo wall rain non gestisce dugong prende rock slide in moon il muso con questo prende earth power non è nemmeno possibile pensarci il resto non tanka ma go sconto prende la septile ma la risposta è troppo l'abbiamo già calcolato stua il cioccolato e basta raga clozza i rabbi cioè nel senso io non so dove cazzo viviate ma va bene che tanka ma raga questo c'ha earth power cioè cosa vuole fare viene one shotato con l'assault s e regge 2 hit io non ho ancora usato la soul vest in sta fight allora snorlax a me sembra l'unico sensato ah davanti ai spancher si ce l'avevo pensato anch'io eh però no 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 sennò ci avrei pensato prima ehm questo è anche lo spedato per favore relax da soul to vest di them relax da soul to vest può far qualcosa si un po' buonissimo solo se l'hpi può far qualcosa eccoci qua un altro che non è entrato senza sapere che siamo sotto swamp e non lo spediamo mai siamo in balia dei flinch di cross slide immagino hai comunque il piano B che sarebbe killare di genita oh sheer force frana non flinch ok si perfetto hinting giusto e near power non droppa soprattutto ma caro questo vuol dire che snorlax avrebbe spazi ma deve rischiare quanti cret 83 83 slough bromega sull'andorus prende poco chiaro poi viene inculato da taranto con un'altra storia l'anzetta è shen pao prossimo che scrive shen pao lo ban c'è per caso un modo che consente a taurus con assault vest uno ci spera sempre un'altra storia Se dovessi saccare Che cazzo sacchi Wallerain Jellycent C'è anche Sì Feraligate Bravi ragazzi Ma Feraligate Ora è già saccato Siccome dobbiamo saccare Sia su Zeptile Che su Landorus In caso Niente Non ce l'ha fatta Non mi seguite Allora Feraligate Viene saccato Su Zeptile Mega Ok Sull'Andorus Magari così è più chiaro Sull'Andorus Che è un altro Pokémon Chissà chi Perché se la nostra risposta L'Andorus e Snorlax In realtà Jellycent sarebbe ok Ma Wallerain Dici poco Uno dei Pokémon più forti Che abbiamo Punto raga Che Snorlax Mica riesce Mica riesce a gestirla Questa situazione Suppongo che Non lo so Non lo so Tink è saccabile Se a chi lato Septile Mega Se a chi lato Septile Mega Ci si potrebbe pensare È l'unico folletto Che abbiamo Forse aspetterai Perché altrimenti Qui era evidente Che fosse Golisopod E sacc Di Feraligate Su L'Andorus Per fare entrare Jellycent Adesso ho addirittura Un'altra goal Avendo perso Golisopod Di Okane Snorlax imparable Deserve the call Disperata Siamo molto disperata Adesso Tanto vale A cercare Il credito Di Sponger Un punto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, perché di Earth Power, giusto Ushifu, c'è una difesa speciale imbarazzante, perché se no Ushifu fosse ult-vest, tankava bene le altre mosse. Nel senso, sarebbe ok, no? Come call, non come roba che incaso sacchi, perché poi avresti... Gelli scent. Il problema, raga, è che... Molto, uomo, molto. Poi Terranium Switch è finito. Tra l'altro Ice Beam non killi, Ice Shard non meno. Ice Beam più Ice Shard non killi mai. D'altra parte, dare la Mega Snorlax sarebbe interessante. Lo riconosco. E era venuto in mente anche a me, ma... Che quello che guadagna è che io ho i one-shot, no? E lui non lo legge. Quindi immagino che vado a fare i danni di Earth Power, serenamente. E non vado a fare Rock Slide. Snorlax Mega sull'Andorus potrebbe essere un out. Presti Tick Fat così, vabbè, con il Dan Power Ice non fa danni. Potresti farti... Suppongo Relaxed. Che se arriva Earth Power... Tendenzialmente arriva sempre Earth Power. Presti il vantaggio di poter giocare Rest. Magari c'è una goal su Tyrantrum che non ho trovato. Tyrantrum non ha molta difesa speciale. E' effetti. Sì, ho capito che Ice Beam Ice Shard lo killo al 100%. Ma se lui switcha è proprio perché ha lo killo al 100%, ciaone, no? Poi se ho punto a capo, devo staccare su Tyrantrum. E' effetti che ti... E' altro un quacoval potrebbe fare qualcosa In realtà Quacoval è ancora migliore Nice E' molto rischioso Quacoval è meglio Bravo Quacoval dovrebbe essere ok Quello che sto pensando Però lui mi auspida Quindi credo che non switchi mai Su Dugong no Perché si Lui su Dugong non switchi mai Perché c'è auspida Sarebbe questa la giocata vero Ironicamente Quacoval è più rischioso forse E' anche più saccabile Ti tenderei a dirti Per quanto in realtà Stia arrivando in ogni fight Non so che cazzo dirlo Slowbro avrebbe il vantaggio che può fare teleport Ma quacoval può fare più la stessa cosa con flip turn E' che se l'obro range E' che quacoval se fate Tairantrum è un'altra E' il sac Capite Per quanto quaco Cioè E' il sac Se succede qualcosa Per quanto quacoval sia buono No Dugong farebbe Ice beam Più ice shard Però quaco Siccome è più utile No L'unico problema E' che Tairantrum Potrebbe non leggere La kill Il turno dopo E quindi potrebbe switchare Ma gli ho fatto talmente tanto danno Che mi basterebbe un acquaggetto di qualcuno Probabilmente Almeno uno di close combat Volendo Allora secondo me sono questi Sai si Allora i mega I mega I mega snorlax Quacoval nettamente superiore a A Dugong qua No non serve quacoval meno difesa Perché è vero Abbiamo il drop di close Basta sempre A quel punto Tairantrum killam E Fai turno uno Un acquaggetto Turno due Close combat Con una citrus Cambia un cazzo Peraltro Soprattutto con una citrus E' l'idea peggiore Perché non è detto Che ti mandi giù Qua giochi Boom Leftovers Acquaggetto lo devi fare Per killarmi E il vantaggio cos'è? E' che qua Quacoval realisticamente Non viene in realtà saccato Perché mega snorlax gestisce meglio l'Andorus Saccheresti feraligator Su septile mega In caso Per far entrare Tinkaton Con La sesce portata su di lui Ti direi E se septile Dovesse switchargli davanti Se almeno uno sei a rischio Che Bro Kill Lo killo prima Lo killo prima Non mi sa Lo killo prima Di acquaggetto Che ci provi Io metto liquidation Su Quacoval No Non credo Davvero Quacoval In fish Non basta No Deve essere più attacco Lo giocherai Leftovers In caso di switch Recupererebbe un po' di vita Per essere più tranquillo A meno che io non voglia Impisciare più item Ma immagino Che sia sempre più worth Avere La recovery Di Leftovers Sparsa Un po' comunque Banalmente Se lui Max Max Roll La Dragon Clone Non lo so Ma credo che siano loro sei raga Non penso che ci siano col migliori Fottuto Quacoval Quanto cazzo sei stato nelle fight Un mostro Usciamo da questa fight Staccando solo Feraligator Mostruosa In realtà Quello è il recap veloce No Per il semplice fatto che Non stiamo ancora andando in battaglia Quindi Non serve il recap veloce Considerato che Non c'è un plan Lo stiamo facendo Se vuoi un recap Riguardo alla lotta precedente Beh abbiamo perso Goal Dopodora siamo un po' Nella merda Per questa Ed è stata una lotta Abbastanza assassina Probabilmente La più assassina Non a livello di planning Perché non avevamo molte Scelte Ma a livello di 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 eventi In game Che È un po' Particolare Dunque Allora Qua come lo fai brave Ciao Siamo E avevi votato per zero morti Hai perso Non era fattibile Zero morti purtroppo Leftovers Poi magari mi ci fermo A ragionare Ma credo che sia L'idea migliore Il lato positivo Di dare Leftovers È che Se per caso Tailandro Non switcha Non switcha Secondo me Puoi rientrare E Sei Tipo Sempre safe Perché poi puoi rifare Al quaggetto Ma non andrebbe mai Switchare per l'appunto Comunque Il set di qua Tendenzialmente È sempre questo Vado un attimo In bagno Ragam No Luke Ci saremmo portati Con l'isopod Non capisci Niente Con l'isopod Ci avrebbe evitato Un sac Grazie a tutti A presto A presto A presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poco al Chibreta in queste condizioni. Credo My Marwakum perché prende Liquidation. My Ampoleon. In realtà... Potrebbero entrare in una serie di loschi figuri. Voglio dire, Flip Turn non la tiri mai, giusto? Flip Turn è intirabile in sta fight quando la tiri. Su Empoleon, forse. Golisopod sarebbe stato eccezionale perché saremmo potuti entrare su Sceptile. Tancare i suoi Ballet Seed. Killarlo. E se per qualche ragione Golisopod avesse attivato Emergency Exit, cioè con qualche crit di Ballet Seed, potevamo banalmente entrare di Feraligator, saccarlo e vincere. E rientrare di Golisopod. Allora. Con una Ice. Flip Turn qui non la tiri. Tipo, ma è vero, tu hai Ice Spinner. Flip Turn è intirabile in sta fight, no? Come cazzo fai a tirarla? In questo modo baiti sempre Marwak. Che voglio dire? È ok, almeno lo sappiamo. Plus baiti sempre Marwak che ti killa di Shadowbone. Wall Rain è qua qua, sì. Questa è interessante, ad esempio. Allora, credo che a prescindere tu Marwak lo vuoi sempre dentro. Se hai una certezza la vuoi sempre, no? Il vantaggio è che, secondo me, questa fight a livello di IA e di Switching AI è un filo più malleabile. Cioè, l'Andorus e Sceptile, se riempiamo di Ice, possiamo tenerli tipo per ultimi e sono i Pokémon più pericolosi. Spero. Spero, mi auguro. Ice Spinner? Flip Turn non riuscirai mai a tirarla. Ma proprio mai, 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 mai. Qualcuno al tienile di liquidation, tanto è sempre Marwak comunque. In realtà, no, beh, Shadowbone è 63, sino a chi mi sembra. Quali sono le altre abilità di qua? Al pisello, palle e culo. Torrent. Viene, è finita. Non voglio dire, immagino che Torrent sia meglio in questo caso. Bello, io ce lo vedo un po' comunque, ho l'abilità pisello, palle e culo. Se fate una Chrome, per favore fatelo. Wow, vero? E' eccezionale le abilità di qua, coval. Non l'avresti mai detto. Oh, guarda, c'è Xiangpao. Non c'è più. Perché? Quindi è liquidation, magari è una special? Per Marwak tu dice, ma in realtà tu vuoi benitare Marwak, quindi va bene così. Tecnicamente possiamo anche non dare liquidation. Possiamo non dare liquidation, in realtà. Nel remoto caso in cui vogliamo tirare un flip turn. Liquidation è ancora più inutile, no? Io do flip turn. Liquidation è ancora più inutile, tanto. Non ci killa nessuno, no? Tanto killiamo con altre mosse, gli altri. Nel cillo. Sì, sì. Per qualche ragione non ci ho pensato. Metto comunque flip turn. Determinate condizioni, magari con qualche recovery strana di leftovers. Oh, su Empolion, se succede qualcosa, Ferali Gator. Metti... Ecco, metti che... Per qualche ragione Ferali Gator more su Sceptile. A quel punto Quacoval diventerebbe un'alternativa su Empolion. Vuoi considerare Rust? Voglio... Su Empolion non è male, no? Impara Rust? Soprattutto sta roba. Wow. Credo che Quacoval possa fare la seconda con il suo Empolion, no? In quel caso Rust sarebbe ottimo. Io direi Empolion ha più 6 di Skull, fa 75-88, ma deve arrivarci prima. Leggo che è Breeding Move. Beh, se la puoi imparare allora sì, è perfetta. Quacoval, anche con una burn, Quacoval, doppio Close Combat, Kila, è alla peggio more, cioè nel senso. Rust, cazzo, incredibile sta roba. Regà, è proprio buono Quacoval, in realtà. Cioè... Ha una serie di utility... Che lo rendono spesso una goal. Tra l'altro, dando Rust, sono tipo sicuro al 100% che entri Marowak. Oh, Quaggetto non dovrebbe mai entrare su Tyrantrum perché non si vede mai morto Tyrantrum. Dovesse entrare qua, Quacoval rimane comunque tutto sommato safe. Quindi va bene. Contro anche meno uno nel caso. Intendi meno uno? Dai che chi fa Intimidate? Sarebbe meno due di Burn, ma sti cazzi. Sotto vado a putere della papera. Beh, a mia disculpa, non conoscevo l'Erseth. Comunque quando è arrivato ho detto che era un buon... E il tipo lotto era buono. Non ricordavo che fosse così. Ok. Senti, Marowak a sto punto. Contro Walrein. Qua la cosa è che Marowak va sempre a colpire. Non va mai a fare Sword Dance. Ok. Questo potrebbe cambiare qualcosa nella nostra percezione del videogioco. Altrimenti detto, vogliamo farci Modest Leftovers. Beh, io comunque un range per killare. Ma quei Lefties recuperi. Stavo pensando che alla fine non giriamo a Sword West. Ironico. Per quindici mesi, questo team ha bisogno di un Luca Jovic per svoltarla. Intendo meno uno death di close combat. Ah, vabbè, sti cazzi. Questo è il 3-3, ma il prossimo prendiamo un starter. Vero, grazie Daniele per il Prime. Così ho bisogno di un Luca Jovic per svoltarla. Beh, il Quacoval è un po' il nostro Luca Jovic, forse. Non lo so. Allora, in queste condizioni a più 2 di Shadow Bone, Marowak non killa. Quello che può succedere è che se noi entriamo su Shadow Bone e lui legge che muore... Non esiste una mosso migliore di surf, vero? A parte che magari non impisce, ma... È relax. Prendi 35-35. Shadow Bone può droppare la difesa fisica, vero? Quindi... Ok. Ok. Allora. Senti. Surf. Ice Beam. No, con Ice Beam... Oh, fuck. Questo è il coccatore sbagliato. Surf e Ice Beam. Senti un attimo. Sto idiota muore. Sto idiota muore. Wall Rain, dimmi che prendi tipo Body Press. Sto cazzo di matto. Body Press. Vai, vado ancora che ha 4 e chiudilo. Il bro prende Body Press. Oh. Ok. Body Press non prende il... Body Press non prende il... Come si dice? Il boost di Furcoat. Posso dire di essere rimasto male. Non parte da 180? Che palle. Perché di mezzo ai danni Furcoat non aumenta la statistica. Eh, make sense. Certo. C'ho pensato. Quindi in realtà... Sì. Marwak potrebbe switchare su... Penso che un po' a prescindere lo giocherò Mystic Water. Il cazzo, lo gioco Expert Belt addirittura. Un Expert Belt, killo. Di surf. Potrebbe entrare un po' leon. Prego, un Speed più Wals for, suppongo. E poi, l'altra mossa... Io vedo Anchor, penso. Palle. Palle. C'è un universo in cui vogliamo fare flip turn con Walrein su Marwakalola? Slow flip turn. Qua qua l'abbiamo detto che sarebbe Leftovers. Qua c'è. 36. C'è una di Gator. Ci faccio l'Explode per me, non ho vede più danni. Eh, ma la CPU di Radical Red parte 500 di questo discorso. Non ragiona per danni, ragiona per resistenza. No, purtroppo con Aquagiat non riusciamo mai a killare Marwakal il turno dopo. Cioè, nel senso. Nel senso. Ah, meno che... 46.9. Di Expert Belt. E anche giocando non mi sticuoterà da Mantfera. Allora, Feraligator lo vuoi... Lamberri. Avrebbe quasi più senso uno switch su Quaquavalla a quel punto. Perché Quaquavalla sarebbe Brave. Non ce la fa, peccato. Se no, era una bellissima play. Perché Flip Turn eravamo coperti dallo switch e potevamo killare con cosa? Il primo che propone è tipo... Choice Band, Quaquavalla lo sgozzo. No, ovviamente non può essere Choice Band. Potrebbe esserlo Feraligator in un certo senso. Ma non cambierebbe molto perché i danni sono circa gli stessi. Ma in realtà sarebbe quasi perfetto. Saresti coperto da uno switch. Plus Feraligator con Choice Band. Fare Joe Lock. Su Empoleon. Da Bernard. Per quale ragione adesso fa meno danni? Prima avevo fatto Feraligator e Choice Band, raga. Ah no, perché non avrei Strong Joe, ok. Certo. Strong Joe. Choice Band. In realtà è ottimo Choice Band. Sì, Feraligator e Choice Band. Non è rilevante quello che scrive Pier Ferraccioli. Completamente irrilevanta. Allora. Vada, non burnato contro Marwak. Feraligator fa 53, il roll minimo è 135. 215. 215 meno 135 è 80, corretto? Sì. 135. Gli togli 15. Diventa 120. Diventa 80. 37. 53. 53. No. Cosa ho sbagliato? Fanculo, porco Dio, sono fuso. Roll minimo di acquaggetto. Eh, perché è sbagliato? Perché ero su... Cosa ho sbagliato? 215. Meno 114 è il cazzo di roll minimo. Diventa 101. Quello che succede è che Wallerain... Con Flip Turn farebbe... Non burnato, magari. Expert belt, magari. Non burnato! 101, perfetto. Ok. Questa è la call giusta perché ci tutela dallo switch di Marwak in caso. Tutti i min-roll sono giusti. Relax, Foxberg è il full coat. Ice beam, surf. Comunque... La call per killare è sempre buona. A mo' di seconda possibilità. Body press? Non mi ricordate che numero di MT era? Ok. Non serve. Thanks. Ok. Perché i den grass? Perché mi devi dare un attimo per cambiare. Perché dovete... Dovete imparare a respirare. Un attimo. Sto ancora... Sto sistemando i set. Sono i set della fight precedente di Wallerain. Un secondo. Allora. Se... Dodrio, grazie. Gentilissimo. Fera choice band. Adamant. Giusto. Jowlock. Ma soprattutto... Acquagetta. Bro, non sono burnato. Per quale cazzo di ragione continua a burnarmi sta roba? Calcolatore di merda, pagliaccio. Ok, sì, no. Un po' di errori qua. Jowlock. Ok. Ora, sicuramente vuoi avere Ice Fang. Perché immagino eviti un po' di switch. In realtà... Se tu confera c'è la lore in cui vuoi baitare Empoleon. Sì, c'è, ma tanto non puoi mai farlo. Perché qui ne baiti uno a caso con ste mosse. Se baitassi Sceptile in qualche... Fermi. Sceptile è già Dragon anormale. Questo muore. Perché... No, non vuoi baitare. Vorresti... Non vuoi... Cioè, non vuoi... Se entrasse Sceptile... Se entrasse Sceptile... Sarebbe un disastro. Aquafang. Ok. E no, così baiti sempre Sceptile. Che cazzo faccio? Vabbè, così baiti sempre... Perché Sceptile su Feraligator non deve entrare. Perché se non è ancora morto Empoleon... Ho ancora bisogno di Feraligator. Quindi sarebbe ottimo se io... Non baitassi Feraligator. Cioè, non baitassi, scusatemi, Sceptile. Ma, baitassi, Landorus. Poi c'è da capire come... Gioca uno Choice Band. Cazzo impara sto Pokémon. Avrà qualcosa di Drago, no? Non esiste Dragon Denti, eh, no, eh? Ma Dragon Clow non dovrebbe fare entrare mai Sceptile, a meno che non legga qualcosa di... Di Choice Band, a meno, non so se li ha di Choice Band. Perché non dare Ice Fang? Non sto capendo. Eh, credo che non capisci. Allora, non possiamo mettere Ice Fang. Perché Ice Fang e Joe Locke assieme prendono kill su Empoleon. L'Andorus explode e Sceptile. Quindi è inutile non fare entrare Sceptile se non entrano tutti gli altri. Perché a quel punto, 0, 0, 0, 0, 0... Entrano random, peraltro può entrare Sceptile. Perché se la teoria di Hago è vera e non ho avuto modo di confermarla, a parità di priorità predilige la Mega. Quindi a quel punto Mega Sceptile davanti a Fragli Gator sarebbe un po' un problema. Perché è vero che potrebbe reggere doppio Ballet Seed. Da un lato. Dall'altro lato, però, se saccassimo Ferali Gator davanti a lui, poi dopo vorrebbe dire che, ok, va bene, Tinkaton magari prende anche la kill, per carità, ma poi dopo se poi... Quindi non è che basta killare un Pokémon per non farlo entrare. Bisogna che non si killino anche gli altri. Bisogna che un Pokémon sia privilegiato sugli altri. Se killi tutti è inutile. Dragon Clow è una buona cosa. Perché tu, Empolion e Cosa, non li baiti mai. Ma sto coglione lo baiti. È come se lo baiti. Discorso diverso. Se dopo aver fatto Aquajet con Choice Band, la IA è in grado di leggere la Choice Band. E quindi calcolo i danni solo su Aquajet. Ma non credo. In caso lo facesse, entra sicuro Lando. In caso non lo facesse, c'è un... 50% di Sceptile. Perché credo che comunque Explode non entri. E ci fa capperebbe un pochino, probabilmente. Ciao Snowfall, grazie per il Prime. Benvenuto. Tra un po' penso che andremo, eh. In realtà il plan, secondo me, è tutto sommato sotto controllo. Ovviamente con dei Sack, ma... Cosa ci vuoi fare? Ho tradotto, su Feraligator non giocherai le Ice. Perché vuoi cercare di limitare le entrate di Sceptile. Penso che IA non sia in grado di leggere il fatto che sono lockato su Choice Band. Sembra un ragionamento troppo complesso. Se lo fa, immagino che saccherò Feraligator. E... E ciao a tutti. E boh, boh. E proverò a giocare di Quacoval. Che devo fare? Proverò a giocare di Quacoval. E logicamente saccare anche Quacoval. Sarebbe molto particolare la cosa. Geolocca, Quajet, Dragon Claw. E comunque Acquafeng te lo porti perché... Una kill a caso su di lui. No, su di lui non vuoi averla kill Giovanni di Ocane. Ti svegli? Porco Dio. Non vuoi avere una kill su di lui. Ma vuoi avere su sto coglione. Vuoi avere su Sceptile. Quale è stato vittima di Sacoax? Nessuno dei due. Era una battaglia molto rischiosa. E... La IA ha switchato molto. Ci siamo persi un potenziale switch. Che poi ci ha costretti a mandare Golisopo in campo fuori dalla sua posizione. È entrato Shandelure con Shadow Tag. È andato male il role su Primarina. Non si è attivato Emergency Exit. Non è uscito. Giovo dimmi se sbaglio qualcosa. Risposta. Sì. Però leggiamo. Fera entra potenzialmente su Marowak dopo aver giocato Flittore. Entra e killa con Acquajet. Non switch perché si vede morto con tutti. Nel caso del Jesse Choice Band puoi tre di Sceptile. Nel caso si può staccare per tre di Tinko usando Quaco va al suo Empolio. No. Sì. Certo. Mi sento stupido ogni volta a dirlo. Però ovviamente la IA può switchare. Quindi mettiamo caso che funzioni così. Mettiamo caso di staccare Frally Gator su Sceptile. Poi entri di Tinkaton. Ma l'IA può switcharlo Sceptile ipoteticamente. Adesso vediamo se ce la facciamo con Tinkaton. A quel punto dopo cosa succede? Succede che tu poi devi giocare con Quaco va al suo Empolio. Su Sceptile devi risaccare Quacoale. Siamo appunto a capo. Questo telecomando non va perché è caduta una pila. Certo non sbagli niente. Sbaglia non considerare il fatto che in questo gioco mettere a One Hit Kyo i Pokémon non è come cazzo di Run and Band in merda di Pokémon Challenges il fallito tedesco. Che porco Dio non gli switcha mai mezzo Pokémon e può fare gli sweep e le strategie dei puffi. Quali ha switcha. Quindi se io metto Sceptile a un certo punto sotto scacco questo fa e switcha. Spero di essere stato chiaro. Ovviamente possiamo cercare di fare in modo che non succeda questa cosa qua. Cioè che non switchino i Pokémon. Ma già vi dico che Tinkaton non riuscirà quasi sicuramente non mi sbilancio quasi sicuramente non riuscirà a non baitare Empolio in campo. Spero che la chiarezza sia arrivata. Saluti a Pokémon Challenges. Non c'entrava nulla però mi faceva ridere l'idea di dire sta cosa. È un grande. Rana in balla segue un sacco. Secondo me è più difficile di Radical Red. Lui è bravo. Bene. Perfetto. E dopo questa incredibile dichiarazione di Mr. Cattaneo direi che posso tenere Flip Turn su Feraligator. Tanto non me ne frega un cazzo. A meno che non mi cambi la Yasu o l'Andorus. Ma non dovrebbe. Ok. Quello che succede è che dovrebbe entrare Lance Borrus. Iscrivetevi per altri contenuti. E la tua cosa su Lance Borrux è... Sborlax. Iscrivetevi per altri contenuti. Tu entri su Earth Power. Potere della Terra. Ice Punch. Che non kill se sei... Un piccolo e stupido Snorlax. Ma... Fanculo. Sono perdonato ancora. Qualche assurdo motivo. Vabbè. Ma kill se sei grande. Grosso Snorlax. Ho considerato che l'Andorus entrerebbe su Feraligator. Ora è realistico credere che arrivi Earth Power e Miro Slide. Ha letteralmente molto più senso. C'è una... Una situazione ironica per cui... Acquagetto Choice Band di Feraligator. Kill la... È be' interessante. Cioè... Se abbiamo le vere palle... Feraligator con doppio acquagetto Choice Band è kill l'Andorus. Però rischio un grito di Earth Power. Se abbiamo le vere pallos Giganticus. Questo ho messo dietro l'Andorus. Su Radical Red di questa zona si può usare? Eccoci qua. No. Bannata. Su Radical Red sì. Su Radical Red Hard Mode che è quello che giochiamo noi no. Se avessi le vere palle totali lo farei. Gioco il 5%. Quale sarebbe il downside per il resto del sacco? Fino. Fino del downside. Quello che succederebbe è che... Se va male entra Snorlax che fa la Mega. Che idealmente su Sceptile cosa si giocherebbe? Bro. Sarebbe playable. Rischiarebbe dei crit. Se andasse a più due. Tra Selandorus potrei rischiare Feraligator per avere un altro Pokémon buono su Sceptile. Perché se Lando crittasse in Switchin sarebbe un disastro, no? Facciamo sto ragionamento. Se Lando critta in Switchin su Snorlax. Che non è Mega. È un incubo, vero? Avrebbe dei roll per Kill Art. È peggio. Quindi se Lando entra su Feraligator... Direi che... Direi che rischiamo il crit super... È più World. In caso perdere Feraligator... Vorrebbe dire poi dover andare su Sceptile e rischiarsi di crit su Sceptile. E sei già Mega Evoluto. Il bro fallo Relaxed... È già Relaxed. A questo punto Torrent è meglio di Strong Joe. No, non cambia niente perché tanto chi li... Sai, comunque due hit su Empoleon. Vuoi fare su Empoleon Choice Band. Vuoi fare quanti più danni possibili. Se sei burnato è comunque due hit. In realtà no, perché c'è il Leftovers. Però cambia un cazzo in realtà. Ma noi frega del danno su Empoleon. Cioè, concretamente. Concretamente. In the concrete. Ma ci frega. Ma ci frega del danno di acquaggetto... Sotto Torrent. Ma nemmeno la Doros viene giù uguale. Probabilmente è più worth fare dei danni su Empoleon... E elevarselo dai coglioni il prima possibile. Penso. Meno probabilità di Skull. Questo vorrebbe dire che potrebbe fare acquaggetti più forti. Sì, tenderei a stare così. Ah no, è la Sassi sto idiota. Cambialo allora. Un po' l'ho volato anche da Quacoal. Sì, va bene però. Quacoal parte già danneggiato. Sono una zappa particolare in questo lato? No. 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 A parte... No. Ma... Potrebbe essere... Che la velocità dei miei Pokémon sia... Un quarto di quella che dovrebbe essere. Tipo, no? Snorlax. Quanto sarà veloce in queste condizioni? Venti... Venti! Venti sugosissimi! Venti ciottissimi punti in speed! Va così. Io che sbaglio città sono il più grande. Volevo dare Ice Punch a Snorlax. Tutto questo delirio in polio non è ancora entrato, vero? Quindi immagino che dare Ice Punch... Venti tipo uscirò come str... Bravi. Esatto. Penso che Rest sia sempre inutile, vero? In realtà anche Snorlax fa bene su un po' inolio. Togli il seguente zanerbat. Allora... Snorlax mega pazzo. Ice Punch. Empoleon entra. Ah, certo. Siamo per la ticina. Come dimenticare? Non dovrebbe entrare Septile, non dovrebbe entrare Landorus, che... Però, in teoria. Deve essere morto. Questo è il tuo commento di gioco. Sai cosa? Hai ragione, Amanche. Cazzo devo. No, Empoleon è sempre dentro. Se io a Snorlax do ritorno, con 160 attacco fisico, vento sempre Empoleon. Sì, Rest può essere sempre buona, avete ragione. Anche perché non credo di voler fare molto altro. Perché con l'Amiga Snorlax guadagna un pochino di difesa, quindi diventa anche quasi pulchia. Attenzione. Un matto cosmico. Dai, ritorno. Questo non dovrebbe impedire Explode di entrare in campo. Ice Punch Kill 1, Ice Punch Kill 2. Non vuoi mettere una terra perché vuoi beatare Empoleon. Quindi immagino che Rest e Sleep Talk vadano bene. Poi vabbè. Explode. Vabbè, poi scusatemi, entrerebbe Feraligator su Empoleon. Ma lì dopo, cioè, lì a quel punto sarebbe Feraligator su Empoleon vince o Quacoa su Empoleon vince. E poi dopo uno tra Explode e Mega Sceptile è irrilevante chi entra, no? Perché tanto sono tutti one hit KO. E se chiedi Empoleon davanti su Explode, vabbè, giochi GelliScent, ovviamente. Lo giochiamo, White Lens. Che se succede qualcosa che entra e explode prima, secondo me quello che tu vuoi fare è tirare Willowhees pa'cazzo. Completamente random. Già imparato, perfetto, grazie. Non lo faccio nemmeno che assorbe l'acqua perché prende talmente pochi danni che non mi interessa. Ehm, quello che a me interesserebbe sarebbe farlo Water Bubble e poter killare l'Andorus come Piano B. Con Surf. Con Water Bubble lo kille. Il coglione aggiungerei. Water. Bubble. E lo cazzo triti, porco due. Recover. Qualcosa che ti impedisce di levare Ice Beam? Magari per evitare sempre Sceptile per ultimo. Sì. Spout, va bene. Fa nel senso. Vabbè, ma ci frega qualcosa di spout qua? No. Giusto. Quando mai tiriamo Spout e ha senso tirare Spout piuttosto che Surf. Prendiamo sempre dei danni sugli altri Pokémon quando non siamo one-shotati, si intende. Probabilmente Spout fa benino su Empolion in caso. Immagino. In realtà è Calm Mind, quindi no. Ice Beam immagino che tu lo voglia. Però se fossi Modest. Ok. Quindi lo farei Modest, Jelly Santa. Slando prende kill, questo prende kill. Beta sempre explode. Ironicamente Beta avrebbe explode. Vogliamo dargli una mossa per evitare Empolion. Ma che cazzo me ne frega? Cioè, se è Empolion... Into explode, porco Dio. Poi explode, prima o poi... Cioè, entra Empolion, butto dentro, faccio Joe Lock, ciaoone, non è un loop. Puoi sentirti potente e gli togli Ice Beam? Eh, potrei valutare di baitare dentro Sceptile in questo modo? Volendo. Sarebbe un modo simpatico di gestirla. Non salva Feraligator dalla morte, ma... Ne va spolta. Potrebbe essere una pseudoidea, in realtà. Non è male. Pensando... Se lo voglio. Boh, sì, in realtà. Perché soprattutto se explode rimane per ultimo, no? E magari avere una mossa che rompe il cazzo Empolion. Cosa impari tu? Forse è proprio Spout. Non penso che ci sia una mossa più forte. Una Hidden Power. Un flash. Un pazzo. Tutto lì ascolto gli allenatori di Caldred, parte 150. Apesion Bound. Cercate il canale YouTube di Apesion Bound. In descrizione al suo ultimo video trovate questa pagina qui. Lui ha tutto. Lo dico in ogni live di Radical Red. Non so perché, non lo sappiate ancora. Piccolo appunto per voi. Aprite le orecchie. Waterspout. Comunque penso che fosse l'idea giusta. Sam. Waterspout è giusta. Perché a full vita non entra Empolio. Non entra sempre sto clown di Sceptile. E lei via Ice Beam. Con la zoom lente Willowis può quanto ha di precisione, raga? Abbastanza da tirarla, no? Cos'ha? 93. Devi ripetere una cosa. Sì, significa che siete nuovi spettatori. Questo è vero. Ma infatti non dovete prendervela. È una gag il fatto che io vi urli. Lo so benissimo che siete nuovi spettatori. Ma è un po' come un rito di iniziazione. 93,5. Ah beh, già lì sento. Non trolliamola, dai. Oh no. Non c'è la zoom lens, invece? Quella che aumenta di più se sei più lento? Cosa che... Forse siamo. Non esiste? Oh sì! Oh sì! Oh sì! Questo gioco infame bastardo, spero bruci. Vediamo l'item location. No, qualcuno l'ha tolta. Non c'è la zoom lens. Eh, ma la zoom lens non sembra esserci nei documenti Radical Red, quindi immagino che ci accoglieremo la whiteness. Calma, alla fine. Oh sì. Va bene. No way modest. Per come l'abbiamo pensato. Poi tinca sempre con la sesh, sempre per l'idea giusta, la sesh su tinca ton. E quello che succede qua è molto semplice, cioè... In teoria tinca ton deve entrare in free switch su septile. Sto lavoro tinca ton avrebbe dovuto fare goli, saprò no. Sai cosa è successo, no? Se lui va più due, cutichilla, ma... Una volta che lui si fa abitare, Ice Spinner potrebbe... E va bene. Ehm... Jolly direi che è una natura inutile. Ehm... Immagino che... Che poi Ice Spinner, non è Ice Spinner, è Ice Hammer, no? Corretto? 100% di precisione. Qua Fallplay la puoi levare, secondo me, tutto sommato. Non che l'Hight Screen sia utile, ora che noto. Ice Hammer. C'è qualche contesto in cui vorresti giocare a tinca, magari? Se giochi tinca hai perso, quindi. Se tinca entra in campo su un altro pokemon ha perso, quindi... Cioè abbiamo perso, eh? Sferaligator, c-sweep. Scusatemi, sferaligator, te ne piacerebbe. Sertai il c-sweep se tinca entra in campo su un altro pokemon, quindi immagino... Immagino che vada bene così. La natura è irrilevante, ma... Immagino che... Vada bene. Non è che sembra più gentile questa lotta rispetto a Gary. Anche è che forse abbiamo un match-up un po' migliore. Penso che giocherò un Tinkaton molto classico. Gigaton Hammer, metti fake out, giusto perché ha la sua mossa, eh. Beh, oddio. Aspetta, no. Allora. Ice Hammer va bene. In realtà... Potresti voler... Oh, perché l'Andorus non è. Ma Gigaton Hammer non tirato dovrebbe tenere fuori dai coglioni un bel po' di roba, no? Fuori dai coglioni è un parolone. Anche a questa. Come, a me. A me. Eh. Un bel po' di roba. Perché se per qualche ragione c'è Sceptile Prima buttare dentro Tinkaton Significa baitare Empolion al 100% Adesso non ti dico Explaudi perché muore da Gigaton Hammer Di certo non lui Marowak se ho knock off E sono Adamant Si vergogna Tyrantro muore subito Ma Empolion Ma Empolion Non lo gestisci Cioè non gestisci lo Switch Lo gestiresti Se avessi Brick Break Oh cazzo Eh no Ho incontrato anch'io Buldo Prima cosa che ho controllato Ma non lo tiene fuori A momenti fa più danni Knock off Questo è abbastanza disastroso Vi dico È vero che Empolion dovrebbe entrare Prima ma Cioè non è disastroso È disastrosa A determinate condizioni Il lato positivo è che Voodoo Sì tra l'altro Ma non gliel'avremmo mai tirata Giacomo Porco Dio Aggiungere Non gliel'avremmo mai tirata Evidentemente Era per tenerlo fuori Ma tanto non funziona Non gliel'avremmo mai tirata Io ve l'avevo detto Allora È un attacco fisico di merda Non abbiamo alternativa Suppongo Oh no Ah no Ok c'è già fake out Madonna Stavo dicendo L'ho perso Per qualche ragione Suppongo Che se Sceptile Switch Su Empolion Fanculo Ne saccheremo un altro Che devi fare Saccheremo sia fera Che qua Non abbiamo alternativa Non abbiamo modo Di gestire questa cosa Quindi Empolion Se non altro Per le call Che abbiamo Non dovrebbe mai rimettere Sceptile Quindi una volta tolto Empolion Poi per come abbiamo Plannato Dovrebbe arrivare Prima lui Fallo comunque Jolly Che Con knockoff Non baiti Marowax E non altro O almeno Da quanto La mia esperienza Mi insegna È molto improbabile Eroxbash Non basterebbe Ragazzi Se per qualche ragione Non chiliamo prima Empolion È probabile Che entri Su Sceptile Questo ci porterebbe A saccare un Pokémon In più D'altra parte Voglio dire Se abbiamo Wispato We Sceptile Porco 2 Allora Sì PP Max Siamo Allora PP Max Rest PP Max Sleep Talk PP Max Recover PP Max Fag out Che non si sa mai PP Max Tipo Joe Lock E Roost Torrent Full Coat Strong Joe Tick Fat Sì Water Bubble O un tempo È veramente inutile Mold Breaker Vero? Sì Ha tutte abilità Offensiva Va bene Dai Ci siamo Adamant Choice Band Strong Joe Il set È quello che è Wall Rain Expert Belt Relaxed Ricordiamoci di fare Flipter Su Marowak Fiera Saccato sicuro? Quasi Sicuramente Sì Quasi C'è Ok Avevo Repellente Attiva Qua vi ricordo Che in questo percorso Abbiamo già fatto una cattura Potrebbe averci salvato La Run È Cloud Sire Qua c'era la Snorlaxita Lui è l'ultimo che dobbiamo fermarci Buona fortuna ragazzi Il plan a me sembra più solido Rispetto a quello che avevamo per Gary Devo dirvi la verità In caso Close più Aquajet contro Tyrantrum Entra Marowak Dentro Wall Rain Into Flip Turn Anche se non credo che possa mai switchare Ma se switcha su Empolion È meglio Into Flip Turn Feraligator In caso andrebbe a killare Marowak Ma a prescindere Entrebbe su Empolion Che è l'unico che può entrare Probabilmente Feraligator Kill la Marowak Poi se entra l'Andorus Come speriamo Perché non legge Choice Band Feraligator rischia un crit Per killare Perché è un Nel caso Non entrasse lui Poi dovremmo probabilmente Rischiarci un crit In switching su Snorlax Sarebbe un po' terribile Poi dopo Sufferà Ligator Dopo che è killato l'Andorus Dovrebbe essere Random 33% di chiunque Non ho considerato questo Ovviamente Se fosse Sceptile Niente Lì saremmo comunque In fase avanzata del game Sa che resti Feraligator Entrebbe Tinkaton Che è a scacco matto Cioè a scacco Però poi potrebbe entrare Empolion A quel punto sarebbe Quacquavall Che non beta mai dentro Né Sceptile Nell'Andorus Né Cioè né Sceptile Nell'Explode Lui killa di Close Combat Poi sacchia anche Quacquavall E poi dopo vinci con Tinkaton E Gialisand Allora molto dipenderà Se Da Ci sono due cose Che io vedo Che siccome possono andare storte La prima è Che Sceptile Entra su Feraligator Prima che Feraligator Abbia killato Empolion Ciò significherebbe Staccare Feraligator E Quacquavall Perché Sicuramente poi dopo Tinkaton Su Sceptile Sceptile Switch Cosa che Ha una buona possibilità Di succedere Grazie Carambola Per il 17esimo mese L'altra cosa fastidiosa Che vedo È Marowak Che su Wallerain Switch Credo lo possa fare O su Empolion O su Explode Perché si vede morto Noi in teoria Facciamo molti danni Ma su Empolion Potrebbe switchare Ma se switch Su Empolion Se non altro La situazione Su Sceptile È più fattibile E Wallerain Va giusto Rischiare Un Kretzu Marowak Se entra Explode Prima del tempo Jelly Sand Può provare A Wispare Sceptile Alla Zoom Lens apposta Può aspettare un po' A cercare di farlo In switch Non ho maxato Quello Wisp Fallo Io lo spammo Gente Buona fortuna Sì Ma non voglio Che succeda Uomo Perché Rischiare Wallerain Su Marowak È peggio Che rischiare Quaco All Feraligator Mi gioco La possibilità Tranquillo Brandon Sei forte Non piangere Sei stato forte Anche alla Sylph Bene Ultima fight Prima della via Prima della via Vittoria Dove poi Ci otteneranno Sette allenatori Dove speriamo Che Golisopod Non sia fondamentale O Chiunque altro Morirà In questa lotta O nelle lotte O nelle lotte precedenti Vai C'è di nuovo La swamp Quindi i nostri Pokémon Sono ancora lentissimi Abbiamo un po' Di priority In questo caso Da quello che abbiamo visto Il matchup Dovrebbe essere un po' Pi facile rispetto a quello Che abbiamo con Gary Entra Tyrantrum Lead di Quacoal Non ci crederete Ma è ancora lui Al centro Eccola la swamp Al centro del plan Ok Close combat Lui non dovrebbe mai switchare Perfetto Ok Max rollato Ora Close combat Ora Noi prendiamo il drop Li dovrebbe leggere sempre Kill ed essere più veloce Non sa che abbiamo Quaggetto però Se ho imparato bene Questo gioco Qui non switcha mai Se switcha potrebbe essere Fastidioso Ok Bene Ora dovrebbe essere Marowak garantito Con il set di mosse Che abbiamo Vediamo Ok Dovrebbe leggere sempre La kill Soprattutto perché Siamo a meno uno Quindi dovrebbe fare Shadow Bone Dentro Wall Rain Anche Immagino abbia senso A meno uno Probabilmente leggero La kill anche con questo Ora Qua il nostro plano È un po' strano Se noi facciamo Flip turn E lui non switcha Noi possiamo entrare E killare Con Feraligator Lui è più veloce di noi Se switcha Possiamo fare Repositioning Ed è ottimo Perfetto 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 Ora Qua ho avuto Un'intuizione importante Raga Se funziona Abbiamo avuto Una grande intuizione Feraligator Acquagetto Lui potrebbe switchare Ma essendo più veloce Potrebbe non farlo Se lo fa Sarebbe un po' fastidioso In realtà Ma a questa vita Ma a questa vita qua Varebbe giù Comunque di acquagetto Quindi Modo lo troviamo Yes Ok 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 Ora Ora qua C'è una bella Slide indoors Noi non sappiamo Se la IA Nel ragionare Gli switch Legge Legge Che siamo in questo momento Choice band Con acquagetto Perché se non lo legge Entra l'Andorus Se lo legge Probabilmente È uno tra Empoleon e Sceptile Fammi vedere l'Andorus Ok Va bene Perché è Empoleon A quanto pare la legge Ottimo Che IA del cazzo Cioè Che IA del cazzo Nel senso Ottima IA Allora Qui il problema è che Feraligator È sotto Choice band Quindi qua dobbiamo fare Un pivoting Con Quacoval Che con Close Combat Peraltro Killerebbe Ok Io Pigerei Close Combat Qua Assicurandomi Che killi un attimo Sì Killam Questo Close Killam E Quacoval Con questo set Può baitare Chiunque in realtà Lui non dovrebbe mai switchare Perché abbiamo One Hit Keio Su tutti i suoi Pokémon A risparmiare Quacoval Ci guadagno Il giusto No Potrei fare entrare Snorlax Su uno Psychic Di Landorus Con Quacoval Un 50% Di non rischiare Il crito Su Snorlax Credo che qui Sia Quacoval Giusto Qua Quacoval Close Combat Anche Anche perché Se switcha È utile Russa Senso qui Un poco Potrebbe avere senso In realtà A certe condizioni Se entrasse L'Andorus Per qualche ragione Ma da quel Però non dovrebbe mai Entrare L'Andorus Ragazzi E venire Venire Burnato Da Skull È molto più Punishing Close No Burnham 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 Yes Ok Bravo Quacoval Che cazzo di Pokémon Incredibile Come la sta Clacciando In late game Penso che sia entrato In quasi tutte le Fight Del late game Impressionante Qua è random Ok Ma non c'è Empoleon Questa è una grande cosa Allora Non sa chi Quacoval Sa chi Fera Poi è Tinkaton E nel caso Poi è di nuovo Sack di Quacoval Feraligator Grazie per aver fatto Cacare Tutta la run Pensa Saresti anche Sopravvissuto Probabilmente Se avessi Se non avessimo Perso con l'isopod Incredibile Sopravvive Perché leggevo La kill di AQ Certo Ok Ehm Per qualche Assurdo motivo Potrebbe reggere Un Ballet Seed 2 hit No eh A dire di no Ehm Ok Questo acquaggetto Non che sia utile Ma Qua è la scelta Più giusta Magari Da danneggiato Switch A meno Ok Fera Comunque Ti sei sacrificato Meglio di così Lo non potevi fare Campiona Ha preso La King Sumarowak Buttala via Ok Allora Tinca torna La kill su Sceptile Lui potrebbe Switchare su Explode Secondo me Ice Hammer Nice Tinca e Sesh Quindi questo Lo tanka anche Crit E kill La di Ice Hammer Bene Ora Credo Explode Va bene Explode Viene annullato Da Jelly Sand Perfetto Perfetto Ora Giusto per sapere una cosa Perché magari non vuoi rischiare Snorlax Gelli le regge Sempre crit Di Landorus Quindi Non mi dispiacerebbe Spammare Recover E far sì che questo Muoia di Burn Per avere la kill facile Qua Surf Non killi mai di crit Quindi vai Ok Immagino che sarà una battaglia di questo tipo Non dovrebbe mai switchare dentro Landorus Perché Landorus si vede morto Come E ora Aspetti un po' Aspetti che Splode Muoia di Burn Con Jelly Sand Tiro in a Recover Perché immagino Posso switchare Ma poi cerchi di stallare Un po' con Spammando Willowisp Recover Così poi sei a full vita E Sei safe da crit E killi di surf Ehm Landorus Salvo scammate atroci È una morte Basta Qualterno Recover a Willowisp Freeze di Ice Beam Sarebbe fastidioso Ovviamente Eh se ti freeze Se mi freeze Pace Butto Snorlax E E Ce la giochiamo Come da plan Non ci perdo niente Se mi freeze E Jelly Sand Può comunque Provare a fare un hit Tanto da dot Di freeze Safe E E poi switcha Su Snorlax Che ha la vita Più facilitata O addirittura Switch su Boh Sì Un acquajet Cazzo ne so Cerchiamo di mantenere La concentrazione Unlucky Unlucky Perché qui lui farà il dannetto E noi non possiamo recuperare No non è vero Sì che recuperiamo È più lento Scherzone Scusate Altro recover No Frostbite Crit va bene Basta che non sia Frostbite Incredibile Ha preso Crit Più Frostbite All'ultimo Ok Che furto del cazzo Allora 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 Crit Più Frostbite Muoio Con dei roll Alti Suoi E io ho tantissime possibilità Di shottarlo comunque Con Surf Considerato Quello che rischio Se switcho Snorlax Pigeo Surf E tanti saluti Ok Killalo È un 75% Cerca di killare Oh wow Era Sorry Era Mi sembrava troppo C'era il Crit di Scusate C'era il Crit Proccato sul Surf Non lo killavamo mai Ok Un po' fastidiosa La cosa ora Perché qua Era Ottimo Beh Nel senso Lì ora Qui ha kill anche di altro Vero Qui deve entrare Snorlax Plano originario Ha un 33% Di fare Earth Power Se crit ha di Earth Power Snorlax Nella merda Però voglio dire Tipo non farlo Nice Ovviamente Qua è Qua è Qua è Mega Snorlax A counter Earth Power Crit Anche se penso di essere Comunque safe Giusto se lui impazzisse Spammasse Rock Slide Into Flinch Sarebbe fattibile Ma qui lui dovrebbe andare Sempre di Earth Power Su Snorlax Vede più danni Succa Succa Tutto quanto In gola Fin dove arrivi GG C'era Sheer Force Non poteva farci flinciare Easy Grazie per Alligator Grande fight Ci voleva Ci voleva ragazzi Dopo Golisopod Ci voleva proprio Sept Ailite Grazie Non lo userò mai Ciao Brandon Ciao Koukoukal Plan perfetto Vero? Quasi stati eccellenti Raga GG Fera Grazie Alla fine Sei caduto Davvero combattente Grazie Firefox Per il Prime Signori Al 3-1 Siamo alla mia vittoria Cosa vuoi Di più Arrivati a questo punto Io faccio una cosa Però Allora A parte il fatto che Prendi la Choice Band Io arrivati qui Faccio una cosa Pokémon tutti radunati Nel box 1 Sì il fatto che sia entrato Presto Empoleon Ci ha aiutato Non è che ha consolidato La vittoria Realisticamente Se non fosse entrato Prima Empoleon Avremmo dovuto Saccare Un Pokémon in più Cioè Quakowal Ma Quakowal È ancora Cazzo vivo Ora Ci aspettano 3 7 fight Obbligatorie Prima della Lega Più Vabbè Eventuali mini boss Se vogliamo sbloccare qualcosa Che ci servirà nel planning Quello lo valuteremo Io riunisco Tutti i Pokémon Che abbiamo In un unico box Sì fa niente Giacomo Non importa Bisogno di contarle La Lega è super 4 Campione tutti di fila No La Lega è super 4 E campione tutti di fila In più i super 4 Possono avere due team random Coin flip 50 e 50 O hanno un team O hanno l'altro E buona fortuna a planare 9 team In realtà 8 Perché di loro e lei Saprai il team Quando entri nella struttura Della Lega Gli altri sono tutti random Sono simili Ma Sarà un po' un casino Bene Signori Questi sono i superstiti Che sono arrivati Nella via vittoria A loro si potranno aggiungere Una cattura Nella via vittoria stessa Un errante Potrebbe essere C.U. Ma vedremo E Un Pokémon ipotetico Alla via vittoria Cioè Alla Lega Pokémon Cioè Un nuovo Scuso Allora Io adesso Avrei molta voglia Di mettermi a ragionare La Lega Cioè Scusatemi La via vittoria Prima della Lega Ma Domani devo svegliarmi Presto Vi dico solo Vi faccio solo vedere Cosa ci aspetta Gli ultimi 7 Miniboss del gioco A partire da Questa con Mousel Ho scuso Non prendi Flutterman Liuk Hai sentito Che ho detto Dentro la Lega Pokémon Sì Via vittoria 1 Via vittoria 2 Via vittoria 3 Via vittoria 4 Via vittoria 5 Via vittoria 6 Via vittoria 7 Dobbiamo giusto sperare Che Golisopod Non sia così decisivo Vedo Vedo già quel Veluza E penso già A cosa poteva essere A cosa poteva essere Golisopod Ma Immagino che Wallrake si è ok Mousel Ci dirà qualcosa Ste battaglie Non hanno condition Particolari Quello che noi Andremo a fare Sarà Plannarle Al contrario Quindi partiamo Dall'ultima Vediamo cosa fare Con l'ultima È una doppia È l'ultima doppia Del gioco Fino a Ovviamente La super 4 Lì Planeremo Al contrario Per capire Quali pokemon Possiamo più rischiare Verso la fine Più Daremo Alla prossima live Anche uno sguardo Alla lega Per Vedere di capire Anche se possiamo Anticipare Magari la cattura Del Non del dominante Dell'errante E ipoteticamente Anche la cattura La vittoria Dove Il pokemon Che a me interessa Di più Non l'ho ancora Planato Ma il pokemon Che a me interessa Di più Sarebbe Flutter main Al 20% In victory road First floor Quindi immagino Quello in cui Entriamo subito Anche perché Se non è Flutter main Potrebbe essere Audino Che è un altro Folletto Non mi dispiacerebbe Abbiamo una Close Su Marwak Goodreysui Dragon Magari è buono Ma se valutiamo Che la cattura Alla victory road È Flutter main E questo lo possiamo fare Solo planando la lega Ma Secondo me Un folletto Alla lega ci serve E Se quel folletto È Flutter main Meglio Cosa cazzo Adorpao L'abilità di Flutter main Non mi ricordo Insomma Come dire Boost IS Stat Insanno Va bene Ma Questo fa Dei danni Importanti Credo che Prenda mosse Molto 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 Interessanti Questo sarebbe Un ottimo Pokémon In realtà Immagino Possa fare Molto bene Su Lens Alla lega Goodraizui È un buon Pokémon Anche lui Credo che Anche lui Possesse Un Pokémon Quasi da lega Porco dio Che mostro Ehm Peraltro Ha overcoat Quindi è immune Alle polveri Alte Al clima Puoi switcharlo Con sepsi È un ottimo Pokémon Non so se È materiale da lega Ma Difficilmente Un typing Così non è buono Contro Lens Non c'è il ride Certo c'è il ride Ma i ride Fanno vomitare Quindi non ci interessano Vero C'è niente di rilevante Tutta roba Che difficilmente Vedo utile Sì beh Giacomo Non è rilevante Che abbia Campione sotto Rain Nel senso che Si gestisce Campione sotto Rain Nei ride Ci sono i choice Items Non è un errore Non lo so E in caso Sarebbero farmabili Sarebbe interessante Farmarle Comunque Fixerò il tutto Faremo Ragioneremo tutto Genesect non è molto interessante O ha download bannata Genesect fa cagare Quello il discorso Genesect ha un typing Che Hai sempre risposta Su Genesect Non credo che sia un pokemon buono Comunque valuteremo Tutte le opzioni Per la lega pokemon Adesso ragazzi Quello che dovete fare voi È stringere il culo Fino alla prossima settimana E semplicemente Sperare Che Golisobod Non sia fondamentale Per la via vittoria Bugsile è un ottimo typing Sì Non secondo me In hardcore Nuzlocke Però Non alla lega Non con tutte le coverage Che ha questo gioco Però Non ho ancora visto la lega Però di base I pokemon fuoco Sono un po' ovunque Sicuramente Genesect A me sembra un coglione Genesect Dico la verità Raidino Dai Vado a dormire Domani mi devo svegliare Alle 8 Per andare dal dreddone Alle 8 Alle 8 e mezza Quello che Sarà stupendo Sarò informissimo Cazzo Che cazzo Raidiamo Raidiamo Allora Siccome Mi sembra Che abbia giocato Radical Red Mi raido Marco Fiero Che credo Che stia facendo Un torneo Di pokemon Competitivo Quindi voglio dire Volete vedere Un Fluttermane Eccolo lì Un quale percorso Un bel walking wake Un bello walking wake Porco dio Fa schifo il cazzo Generalmente Gli erranti Saranno O Chiu O Shen Pao Che so che sono forti Immagino che Possa dipendere L'errante Anche da Che l'orelei Avremo di fronte Credo che sia quello In più La prossima volta Se ci sarà un altro try Quindi se perderemo In via vittoria O Lega Farò molto più attenzione Lato starter Per poi capire Che team del campione Beitare Perché Verre il campione Sotto permanent rain Si può planare Però Potresti anche Non volerlo A certe condizioni Non lo so Comunque vi rai Do Marco Fiero Noi ci vediamo In live Lunedì sera Sicuramente con Radical Red Con immagino Grafiche da Lega E quant'altro Lato video Adesso Io faccio una cosa Prima di andare a dormire Ci metterò vent'anni Ma Ce ne facciamo Una simpatica ragione Ovvero Ossia Carico Per gli abbonati Su Youtube Il film Di Pokémon Y Ma i Pokémon Si evolvono Ad ogni livello Voglio dei soldi E Basta Sono stanco Però dai Siamo alla Lega E abbiamo perso Quello Però siamo alla Lega Scusatemi Alla via vittoria Buono Random Dear Gold Quando esce su Creepy Live Non dovete chiederlo a me Non lo ci scrivo Perio